Lo smanarverso dalla nonnina Sei sulla schiena del buratello Tutti ce l'hanno proprio con te Durante la messa continui a parlare E fai stufare le vecchie Appena la donna ha dato lo straccio Zamponi per tutta la casa Per fare il brillante le mandi dei fiori Matacci scurde e sunom Mentre nel forno sgonfi la bici E a piedi lei tornerà E non t'accorgi Che ormai ti arriva Lo smanarverso dalla nonnina Sei sulla schiena del buratello Tutti ce l'hanno proprio con te Dal tuo terrasso continui a spiare la camera della bagnante Ormai è mezzogiorno È l'ora del bagno E in mano ho già il canocchiale Ce la canti la, devo impararla prima Sentite, sentite, sentite Fatelo cantare Lui si accorge di me La vedo al mare Vuole giocare Du che sarà a Glimburneu E non t'accorgi Che ormai ti arrivo E che commuovete, sta cosa è Lo smanarverso Lo smanarverso Lo smanarverso Dalla nonnina Sei sulla schiena Del buratello Murti ce l'hanno proprio con te Zam zam Ragazzi è una cosa spettacolare Io penso che con questa lo stream È arrivato all'apice dell'eleganza Della sobrietà se volete Ragazzi ciao a tutti Ciao carissimi Io apprezzo Io ringrazio Chi me l'ha proposta sul gruppo Telegram Io non ho fatto altro che sentire quella Oggi ho passato il giorno a studiare E nel mentre in confietta C'era il maestro Arturo Calindri Con la sua hit Sulla schiena del buratello Cosa È fantastica Usa la commissione della sub Tutta caro Io guarda io Nella stream metterei solamente questa La farei in loop La farei Ciao a tutti cari Bentrovati Buonasera Ancora una volta stream serale Ancora non sono abituato a stream Alla sera Deve essere sincero Ma è un porro o una sigaretta No caro una sigaretta Non è diciamo Nel senso Manca quel non so che discremento in più Però sai poi magari Era una cafonata Invece così È più signorile se vogliamo Buonasera Giallo Buonasera a lei Buonasera a lei Signore è fantastica È fantastica Sono sconvolto da quando l'ho sentita È una cosa Non so Non trovo le parole per esplicarmi E dire la cosa Buongiorno Come va bene caro Buongiorno Sì 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 Marco Ciao caro Ciao cara Allora signori Diciamo una cosa subito Sì Ma scordo È importante La schedule La schedule È stata sfornata È stata sfornata che vuol dire Che streamerò Perlomeno adesso inizialmente Tre volte a settimana Ragazzi È periodo di esami E molti probabilmente Sono nella mia stessa Bruttissima situazione Quindi Non gliela faccio A streamare più di tre volte Inizialmente Tipo Sono due giorni che studio Perché io studio anche Anche se non si direbbe Invece che fa solamente il coglione Io studio anche E quindi non gliela faccio Non gliela faccio carissimi A No non è un porrone Caro è una sigla È uno svapo È uno svapo Quale semente Perché dice che è un porrone Mancherebbe il deretano Però Twitch non me lo fa mettere probabilmente Probabilmente Io ci proverò eh Proverò a farlo Magari me la vedo durissima Nel mentre Nel mentre Nel mentre Nel mentre Nel mentre cari Devo ringraziare Deadcry97 Stasera Tocca un po' britice Se vogliamo Per la sub Off stream Grazie a Luca Killer 98 Grazie a Trager 198 Grazie a Mark Con sacco di numeri vicino Grazie carissimi per il supporto E per la sub Grazie a Evie Andre Grazie carissimo Ben trovato Buonasera a lei Mastro membro Grazie caro per il sub Grazie a Damian Grazie a Il Griso 97 Grazie a Estic Grazie a Josie E grazie a Sebi Mellone Per la sub Carissimi Grazie mille per il supporto Grazie veramente tanto So che siete diciamo Stati spinti dalla hit Dell'Arturo Del maestro Arturo Grazie veramente tanto Per il supporto Che mi stai dimostrando Veramente grazie Grazie tanto Alimentate proprio La voglia che ho Nel continuare questo progetto Che sto adorando Sono arrivato Merde Buonasera caro Che gran età Si è perso la hit Dell'Arturo però Si è perso la hit Dell'Arturo Nel mente grazie a Jan Deman 49 Grazie a Steve Zanna 89 Grazie a Lorenzo E a Mark Grazie carissimi per la sub Vi aspetto tutti Nel gruppo Telegram Veramente cari Se non avete ancora La mail Anche se io a fine stream Poi la mando a tutti Probabilmente a chi già c'era già Gli intaso la casella De posta elettronica Se la volete subito Contattate I mod Che dovrebbero Dovrebbero Sta chat Buonasera Elfle Buonasera carissimo Buonasera cari Cavallo bastardo Ecco Lei è un pusillamine Lo so Pusillamine Lo so caro Se ormai ci ho fatto il callo Sono abituato Ma è vero che nerferanno L'orore dei cunicoli È vero caro che ci saranno Di nerfinato E quindi penso Che l'orore dei cunicoli Siccome il bomber Dovrebbero Per quanto mi riguarda Essere i primi Attanagliati Perché Non lo so Anduin decay Alcuni dicono Come cazzo lo nerfi Anduin decay Cioè nel senso Fai un danno Oppure Fai due danni Dopo che evochi un minion Non lo so cari Non puoi nerfarlo Probabilmente Anduin decay E nel mentre Nel mentre Grazie a Lorenzo A Mark Che avevo già ringraziato Grazie a Grott91 E grazie a Lorenzo 0412 per il sub Grazie carissimi Buonasera a lei Gabri Buonasera Da Gamebox E Atom è composta Ecco caro Non mi ricordo Non lo so Non lo so perché l'ho persa Nel senso Non l'ho persa diciamo All'interno di spelonche fisiologiche Ma l'ho persa a casa Sono tornata a casa A San Benedetto Ho fatto una serata strana L'ho persa Infatti mi manca tantissimo Dove che ricomprarla Allora cari Che dobbiamo fa? Dobbiamo giocare Allora Ho giocato pochino Però ho giocato Sti giorni Oggi e ieri un po' Ho giocato un Un rogue Il fatto che sia rogue Si evince diciamo Dalla fascia Così sconvolta della valiera E questo rogue In teoria Non è così O meglio Non era così Ci hanno raggiunto Poco fa Non mi ricordo quanto Recentemente Rank 1 Legend Nica cazzi Rank 1 Legend Il fatto è questo Che il tipo Giocava La Sonia Eccola qua Sapete qual è il discorso? È che la Sonia è molto forte Vi può aiutare in parecchi mashup Contro aggro Vi aiuta parecchio Contro pala Che ne sto beccando tantissimi Però è anche vero Che come fai In un meta del genere A non usare lo spezza magie? Cioè come fai Se becchi un warlock A vincere la partita O push come un assassino In Irly Altrimenti la vedo particolarmente dura Caro mi manca lo specchio Mi manca No caro per favore Non mi tocchi questo Questo tasso dolente Me lo voglio far spedita A mia madre E pensa che sono matto A me pure Mi manca lo specchio Ma non me lo mandano C'è poco da fa insomma C'è poco da fa Samb che è 97 Grazie per il sub Grazie a Justine 92 Grazie a Oblix 23 Grazie a Andrea Grazie a Kikredis Grazie a Lowy Grazie a Spartan 98 Cari Grazie mille per le sub Grazie veramente tanto Siete fantastici Giochi tempo rogue Inizialmente sì Poi vediamo come va Io ragazzi Stasera non va sicuro Che non becco il Razzacu Sai io lo prendo E beh 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 Si fa leggende diretti E velocissimi Grazie a Nikop Grazie a Lightspeed Grazie cari Sì per la sub iscrizione Grazie mille Noi vogliamo Razza a turno 5 Carissimo Per ogni Razza a turno 5 Lei e tutti gli altri Mi è compleso Siete autorizzati Autorizzati A spammare quella cazzo Dei moto e della sigaretta Maledetta Perché ci sta Quindi ogni Razza Dei turno 5 Dopo diciamo Una solenne impregazione Via con lo spam di sigaretta Perché ci sta Ciao Ciao cari Ciao Marco Ciao Ducone Ma vedo che lei si è subscritto Ma qua non mi appare Nei miei potenti mezzi Che lei si è subscritto Non l'ho trovato Non lo vedo Sono l'unico che non sente nulla Pensa che figura di merda caro Se avevo il microfono mutato No È strano che lei non sente nulla Never Legend Lo so caro Lasciamo stare Lasciamo stare Che becco Sono esclusivamente preti E quindi Che non sia questa La partita tale Per cui Se spamma lo swap Al turno 5 Signori Ormai lo sapete Faccio partita E poi guardo tutti gli alert Il neurone Diciamo impazzisce Però insomma Questo è il discorso Allora gari Giochiamo contro preti A me la mano mi piace E come Non abbiamo keleset Però Sai Talvolta meglio Un non keleset Che uno sghigno in mano Quindi io sinceramente Me la terrei tutto Abbiamo il coin Pembancliff L'orrore dei cunicoli Vanna è fata Sta carta dai Vanna è fata Esce il membro E caro no Non sono nella sezione data Tocca fa Tocca andare prima Nell'irl E poi talvolta uscirlo Il gruppo telegram È solo per i sub O per tutti caro È solo per i sub Mi dispiace Per gli altri comunque C'è un gruppo diciamo Normale spassionato Se così vogliamo Allora Perfetto Parte di chierica Puntuale Dio caro Puntuale come la cagata Di mattina Dopo il caffè E talvolta la sigaretta Non gioco nulla Non gioco assolutamente nulla Anche perché Non lo voglio far pescare Gratis Certo quel coin Per Van Cleef Mi ispira particolarmente Tanto Non mi ispira Il coin per il bucaniere Che è chiaramente Razakus Becco solo quelli Signori Becco solo Declusivamente Questi Questi Sei razzista No caro Perché Barbadera Come Perché dice questo Cioè da cosa Da cosa l'ha Dedotto sta cosa Signori Tu nuovo Andiamo di bucaniere Coin tagliagole Le devo traddare Questa maledetta Chierica Viceversa Tagliagole Go in Van Cleef È un 6-6 Traddo la Chierica Perdo lui A me diverte lui Sinceramente Non è che me ne Ecco guardi Se mi da Se lei mi da Un backstab adesso Non sarebbe male Bel Van Cleef Baffato Poi magari È canterato da Silence Shadow for Death Questo È particolarmente chiaro Però insomma Non è che lo Disdegnerai tantissimo Niente Non Va bene Va bene Fa niente Ehm Perfetto Subito situazioni Particolarmente difficili Razza T5 Aspetti caro Che arriva Aspetti che arriva Il dorso classico Lui Non si faccia Non si faccia Diciamo Impressionare Dalla cosa Allora A me signori Piace un bel Van Cleef Pompato È un 6-6 Non è male Il turno dopo Purtroppo però Non posso giocare Bucaniere Tagliacolle Perché mi manca Comunque L'eropower E la 1-3 Va tradata Ora Volendo Potremmo in realtà Semplicemente Giocare il Bucaniere Tradare l'1-3 Ripartiamo con Un 3-3 E un 2-1 Lui fa il value trade Diventa un 3-1 Io quindi Vuol dire che Devo fare Eropower 2-3 E non Non se ne esce Va bene Vado del Bunkly Vado del Bunkly Sapete che in realtà Posso pure Fasso 3 Mi tengo L'arma Per giocare il tagliacolle Con il Bucaniere Nel frattempo L'ore dei cunicoli Se la ride sotto sotto Mi piace Buonasera a lei Mave Buonasera carissimo Hai la mia compassione Ah vai parli con l'altro Signori Grazie mille per i sub Li sento Li udisco Ora chiaramente Finita la partita Vi ringrazio a dovere Buonasera fra Buonasera a lei caro Che bella questa Che bella questa cosa Di molto svapo Che c'ho caro Molto significativa caro Molto significativa Mi piace Allora Non mi piace Lo shot over dep Oppure pensate bene La sap Presa dallo swashbubber Ok Il sap Mi era entrato Gazzo Sarebbe stato ancora più grosso Questo vancliffe Ehm Signori Io l'orrore Me lo terrei tranquillamente A costo 0 Bucaniere Tagliacolle Tradiamo Andiamo faccia Facciamo bei danni Li facciamo Viceversa Posso traddare Giocare il cunicolo a 1 Il cunicolo Sto dicendo Nomi strani Per le carte Che non sono questi Ma a me piace tanto Fare una cosa del genere Essere particolarmente Aggressivo Gli do una pushata Infinita Peccato non averli In mano Però insomma Il cunicolo a 0 Gli farà particolarmente male Non ha il coin Certo Potrebbe giocare a shadow War La 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 Dragonfire potion Il turno dopo E probabilmente Io non posso Giocare alcunché Potion of madness Spirit Lash No 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 Perfetto Non dovrebbe aver lasciato La Dragonfire potion Dopo la giocata che ha fatto Facciamo le cose facili Prima Allora questo va giocato sempre Devo giocare al minimo attorno La Dragonfire potion Penso di sì Ok che se potremmo Settare lì da lì Però insomma Non è che mi piace tantissimo Come cosa Schiavoluccio La penso cari Che sia la giocata Più forte adesso Perché secondo me Spirit Lash Non ce l'ha Non c'ha manco La Dragonfire potion Per la giocata che ha fatto Poi magari Sprega Muleo Fa una giocata Particolarmente diversa Ok non ha nemmeno Circo la feeling Il che cari È particolarmente interessante 2 4 5 5 5 6 7 8 9 10 12 13 In realtà potremmo Settare lì da lì il turno dopo Mettendo la fiamma Il fatto qual è? Che me perdo un attivatore Di qualsiasi cosa Vuoi Vilerba Vuoi S7 Penso che se non Contesta questa borda Non ha il coin Peraltro non può nemmeno giocare Quello Quel poco di buono di Anguin Va bene Dragonfire potion Va comunque particolarmente male Ma io continuo a pensare Che non ce l'ha Ah carina Sippatica Sippatica la nourish Va bene Ok ora anduin di che è particolarmente tragico Vediamo che prendiamo dal pirata Non so se gioca all'orrore dei Mi piace Anduin di che non vale assolutamente un cazzo Sippatica la nourish Vero caro Vero Ha notato Ha notato Nourish Sì caro Perdonami la mia parlata poco inglese Ma non sono grato Non riesco a Non riesco diciamo proprio A esplicarmi a livello British se vogliamo Ok si fa una valanga di hill A me lo stronzo delle torte È un qualcosa che mi turba veramente L'esistenza e l'animo È una cosa terribile Ma a me sta giocata Non mi dà alcun tipo di problema Io ancora non mi fido C'è nel senso Volendo potrei Mettere una board Devastante ma E rivedo La giocata intorno All'anno in decay Secondo me È doverosa e obbligatoria Doverosa e obbligatoria Lo stronzo va assolutamente trattato La Dragonfire Poche La Poche of Madness L'ha giocata 5-10 19 Penso che mi serve il coin Penso no? Settiamo lì All'atturno dopo La Dragonfire Rimane cari Ancora molto forte Il problema Che per lui Che abbiamo I terrori I cunicoli degli orrori Che possono ancora Entrare in campo Il problema è che se io non gioco Attorno in decay Lui vince a mani basse Mamma quanto è bello Quando lei non ha razza Di turno 5 caro Guarda non può capire La soddisfazione che ho Proprio nel vederla Così in difficoltà Senza razza E non ha ma Quando in decay Molto probabilmente Perché fa una giocata del genere Questa è Forte Questa Va bene Collirò il Lidl E rompe il cazzo Questa invece Si Si rompe il cazzo Particularmente Oh che carino caro Che è lei Oh che carino Che è lei Questa va tradata Sta puttana Purtroppo Che è l'esercaro Lei vinta sempre Assolutamente in ritardo Sapete qual è il discorso Che Spirit Lash Non dovrebbe averlo più A meno che non ha preso Un altro dalla Dalla lira Ha giocato No in realtà Non ha giocato La 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 Fisic Scream 2 4 5 Tanto la fine è uguale Stessa identica cosa Ma vediamo che soluzioni Adesso Oggi non ci siamo Ah no caro Aspetta Adesso Abbi bene Abbi paziente Miss Little Sicuro caro Sì sì Lei inizia a dirlo Che tanto Ci scappa sempre Hai la lista Caro in realtà Io ho di più per lei Oh che non pensasse A un qualcosa di strano Io ho Il deck trigger Che mi scordo sempre Di metterlo Ma che ti assicuro Che lo metterò a breve A me sti cazzo Di errori Uno va buttato 3 4 5 6 7 8 9 14 C'è tre carte in mano Caro Lei ha tre carte in mano Cosa vogliamo fare Ce ne buttiamo uno Il fatto è questo Che Fisi Scream Mi fa particolarmente male Io devo trovare qualcosa Per ripartire il turno dopo Quindi un orrore Sicuramente L'aria di l'erba La posso tranquillamente Utilizzare sul 2 3 Visto che non ho Problemi Certo potrebbe in realtà Giocare Velen Ma se gioca Velen Comunque è praticamente Fottuto Va bene Ma HS è diventato Una parrocchia O HS è un gioco Della parrocchia Caro HS pur essendo Un gioco Della parrocchia È diventato Una parrocchia Perché becco Solamente questi Cazzo Tirando i maledetti Sempre O non è che dice Una partita Che sbaglio Becco un'altra classe Qualsiasi Che sia A parte i paladini Che li becco Frequentissimamente Ha to' beccato La Dragon Fire Portion Interesse Bello Bello Mi piace Ha to' beccato La Dragon Fire Portion Mi piace Mi piace caro Mi serve O Kille Dettore Oppure Liroi Per provare Semplicemente A chiudere Sta cazzo Di partita Che sta diventando Già Un parto Subito Appena iniziato Chiaramente Non ho giocato Lo Spezza Peggio Cantorna Tanto Indicay Che secondo me Va bene Va bene Nell'importante caro Che mi fessi cazzo Di undici danni E stanno tutti tranquilli Si pronuncia Faisy Scream Lo so caro Non lo so fare Non ci ho provato Ho messo pure allenato Al tempo libero Non riesco L'hailing potion Dalla lira è bella Sì caro È tutto molto simpatico L'hailing potion Dalla lira Dragon Fire Portion Ormai non so se avete Lo dato Prendo tutto Molto più sportivamente E questo lo faccio Per i primi tre match Al quarto Mi si tappa la vena E così È sempre proprio Studiato È matematico Al quarto match Mi si tappa la vena Ecco Perfetto Bene Che situazione Bucolica Che bella situazione Che bel tobe Che ho fatto Questo è un modo Deve l'eroe Non posso chiaramente Giocarlo Chiaramente Se mi è metata La dacca a Zagus Questa partita qua Già Che è difficilissima Inarrivabile Invincibile Ma vengo più Salve cari Buonasera Buonasera a lei Attina Attina Buonasera a lei Cos'è quel cuore Attaccato alla parete Qua regalo Casa non è mia Questa qui Aspetta Fammi vedere la webcam Ah no Quello l'ho comprat Ah quello è Il regalo Che ho fatto Alla Miriana In uno sprazzo Di romanticismo Che non è mio Così Ah non è di che Vero? Sì 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 Male 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 Malissimo Malissimo Porca Troia Malissimo Ma un deck con Garaxus Me lo dica lei Come faccio Come faccio Un deck con Garaxus C'è Perfetto Mannaglia Cosa Dio caro Ma lo vedete Passo dell'ombra Backstab Cosa do te Adesso Una coin Buonasera Eriollo Buonasera Sì sì Ho perso Ho perso Non lo so Lo so Oh ma quanto si è curato Sto prete È dall'inizio della partita Caro che si cura È dall'inizio della partita Bill Roug Sai Michels Ho visto Ho visto Partita chiaramente Fottutamente persa Cioè penso sia ormai Bastardo di cosa Incredibile È un aspettacolo È uno È impestato Sto gioco è impestato Di me È un gioco di merda È impestato Dio di Dio È impestato È impestato Seriamente Seriamente Porca troia Oh ma vi giuro Che dico io Devo morire Io Gesù Cristo Ho fatto veramente Oggi e ieri Poche partite Non ho perso Una Mo subito così Me ne faccio un'altra Perché ci credo Questo deck tantissimo Ma ci tengo Particolarmente tanto Cari io prezzo molto Che vi è piaciuto L'emote dello svapo Sono contentissimo Mamma che gioia Più bella della Ah boh vaffanculo Ti va Devo ringraziare tutti Me ne voto la partita Ora metto La hit di Arturo È l'unica Abbiate bene È l'unica È l'unico modo Che ho per vincere oggi La hit di Arturo Arriva all'istante Dopo che ho ringraziato Un sacco di gente Cari grazie mille Per il supporto Grazie amoroso Grazie per il sub Grazie a È un burlo Vero? Ah meno male Che bello Grazie a Rigan Sand E grazie a Namor Per i 3 euro Caro una minima donazione Come impegno Per non poter seguire Tutta la live Prometto di recuperarla In nottata Grazie caro Già che è passato Mi fa tanto tanto piacere E soprattutto Mi ha piaciuto il fatto Che mi ha donato 3 euro Non approfitto per ricordarti Del compleanno di pelle Questo sabato Va bene caro Me lo ricorderò Magari scrivimi in privato Così famo pure gli auguri Mario Trick Grazie mille per il sub E Dragogin Grazie caro per i 2 euro Ciao caro Sono il pazzo Che ti ha fermato Fuori dall'unico Fratello Adelchi Ah Adelchi Me lo ricordo Me lo ricordo Me lo ricordo Adelchi Bella sta mano Voglio topdeckare lo sghigno Cazzo Voglio topdeckare lo sghigno Raolo Pe Grazie caro per il sub Maverick Grazie caro Benvenuto sulla schiena Del buratello Si accomodi pure È intassata Però uno spazietto Sulla schiena Dovrebbe trovarlo Austin 91 Grazie per il sub Grazie a Jacopo Gargatua E a Demark 97 Ma vaffanculo Ma non è possibile Ma su via Ma chi è lo schiatta morto In live che c'è sta Ma dico io Ma dico io Ma buon dio santissimo Onnipotente Creore Celis Terris Di tutte le cazzo De cose E perché questa Non è la quarta partita Eppure Questa è la seconda partita E no Non mi dovrei impazzire io Ragnarek Ragnarek È impossibile Sta situazione qua Capite che non è Assolutamente possibile E come è facile Arrival a leggere Sta season così Zavao Grazie caro per il sub Grazie a Sicarius 98 Grazie a Dharma Grazie a Cosimo De Medi Grazie mille carissimo Grazie mille carissimo Che è le sette Va bene No Sghinio Ciao carissimo Ciao Anonymous Grazie per 2 euro Ti seguo da un po' E sei uno dei pochi steamer Che riesce a farmi pesare 30 minuti di video Grazie caro Apprezzo tantissimo Sta situazione Continua così Se volessi aggiungermi Per seguirti Anche io Mi vorresti felice Grazie caro del tag Senti mi avete rotto il cazzo Tutti Mi avete rotto Veramente i coglioni Cioè Sono veramente Esauso E distrutto Dalla vita Sono cotto Sono proprio cotto Sono cotto io Se gli fai complimenti Al padre eterno Poi lui non recepisce La contrarietà Lo so caro Ma tra poi I complimenti finiscono Dammi Van Cleef Dammi Van Cleef Dammi Van Cleef Dammi Van Cleef Dammi Dammi Van Cleef Dammi Van Cleef Mannaggia a te A Van Cleef Posso Sareo power Vado di schiavo Incatenato A turno 5 Turno 6 Probabilmente Devo refresh E devo refresh Lo power Perché Avete capito Che oggi il passo Dell'omba Mi stavo particolarmente Sul culo Non ho chiaramente Il silence Non ho chiaramente Il silence Dal volta Lui giocasse Un lacche E vi assicuro Che il lacche Può tranquillamente Averlo Usciamo un po' di danni Finché lui Praticamente Non mi sovrasserà Con la Con il Voilord Pertanto L'unica Bevo in condition Se ancora Ne posso Intravedere qualcuna È un top deck Di spellbreaker Intuliroi Spellbreaker Intuliroi Coin Dark Pact Vai Vai Va bene Va bene Ci sta Io devo cambiare Subito deck All'istante Ma non penso Che questo Aiuterà un po' Capirai Cioè non penso Che questo Aiuterà un po' Non ha assolutamente Senso giocare così Non ha assolutamente Alcun tipo di senso Giocare così Fa un culo Alla puttana Della madosca Ho lanciato il coso Con un gesto di stizza Infinito Ho lanciato il cazzo D'accendino Cambio deck Rega che vi devo dire Però capite che non è possibile No Cioè non è colpa mia Io mi assumo Io non mi assumo Le colpe di sta cosa Grazie allo Grazie per il sub Grazie a fortress Grazie a sgank Io ho bisogno Di rilassarmi un secondo Ho seriamente bisogno Quindi Non mi Non mi Incazzate un attimo Ho bisogno di un attimo Di pace Di serenità Spero cari Non si senta troppo alto In relazione al mio audio Però non riesco Non riesco Grazie black Grazie a scacco Grazie sebi Grazie a drake Mamma quanto è alto Arturo Si calmi caro Non posso Dovrebbe essere più percepibile Adesso Grazie a Danzo Grazie a Fabolo Grazie cari per il supporto Veramente Gentilissime A parte le strozzate Grazie veramente tanto Grazie Giorgio Per i 2 euro Tenga caro Con questi si compri un pacchetto Ora ne apro 5 Così a caso Grazie a Demp Per il sub Grazie carissimi Grazie mille per il supporto Dai un occhio al control warrior Di mediador Qual è caro Aspetta Io ce l'ho un paio di control warlock Che li userò adesso E volevo Provorvi con voi Non vi voglio proporre niente Volevo un consiglio Da parte vostra Io ho utilizzato Ho utilizzato Ho fatto prima di partire a live Questo deck qua Questo è il deck Mi pare di snow Con cui ho raggiunto legend Il fatto è questo Ora pensando un attimo A mente lucida E non c'ho attualmente La mente lucida Se io vi cambio la Rin Dalla nonnina E ci metto sto ragazzo Se lo trovo Ci metto sto ragazzo Che dite Gioca Jade Legolas possiamo pure fare Carissimo Non la vedo all'interno Di una pentolaccia Con un remo in mano No caro Lasci fare Lasci fare Oh lo faccio Quindi sto cambio Però In realtà potrei anche Non cambiare la Rin Che cambio Perché la Rin Tra voi Io perdo ogni minima credibilità Che ho con questa Soundrack dell'Artura Se io tolgo la Rin Alla la Rin a che serve Principalmente Serve per vincere O meglio La Rin con questo deck È l'unica win condition Contro prete Contro Jade Abbiamo il ghast Come win condition E contro qualsiasi aggro Basta semplicemente Il lacchè Quindi dico io Io levo la Rin Metto l'oscurità E counteriamo In sim modo Il Razakus Che poi devo capire Che cazzo è Sto smanarverso Arturo caro Ci sentiamo dopo Quando chiederò Conforto a lei Prima possibile Qual è la lista Del rogue Te la lascio vedere caro La lista del rogue È quello utilizzato Non mi ricordo Da chi come ho detto prima Raggiunto il rank 1 Top legend Il fatto è che Il fatto è che Al posto dello spellbreaker Aveva la sonia Capite bene Che in funzione Delle partite fatte Poco fa Non sarebbe cambiato Assolutamente niente Anche perché Lo spellbreaker Contro prete L'abbiamo giocato Per silenziare Un nostro S7 Per swing a faccia Nell'altra partita Mi pare che Manco l'abbiamo utilizzato Anche perché Non c'è uscito Nell'altra partita Quindi Fondamentalmente Meno spellbreaker Più sonia Non lo so Non lo so Quindi Mazzo stregone Proviamo caro Ci dia giochi Perlomeno Apri il deck tracker Subito caro Per lei questo e altro Aspetta un attimo Però che devo Che devo aprirlo Per l'appunto Sapete che a livello Tecnologico Ancora devo Imparare tanto Vedo che Si sta Vedo che si sta Muovendo qualcosa Vedo che si sta Muovendo qualcosa Nel mentre Nel mentre cari Aspettate che vedo Altri sub arrivate Grazie a Demp Grazie a Zuzumiliano Grazie a Bardock Per il sub Grazie carissimi I am Lucio Luigio Ciao Luigio Grazie per il caro Grazie per il caro Benvenuto sulla schiena Carissimo Grazie a Luffy Grazie a Daniera Grazie carissimi Per il supporto Fantastici Grazie veramente Tanto 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 Non sapete manco voi Quanto l'apprezzo Aspetta tutti su Telegram Nel mentre vi ricordo Che potete Scrivere Non lo voglio Questo qui Ai mod in chat Che ci sono Per poter essere invitati Subito Adesso All'istante Caro i cinque bacchetti Caro me lo ricordi Dopo la partita Ho la memoria corta Delmut Grazie caro per il sub La vedo in chat Grazie per il caro Ok Dov'è mi spellire Ancora caro probabilmente Non è arrivato Perfetto Nel frattempo si è sminchiato Il deck tracker Aspettate un attimo Ok Bene Ok Ora Buon dio Si è sminchiato No Ci siamo Il corridor creeper Non mi ricordavo Deve dirgli in realtà Forse non ci siamo Ok Ora in teoria Il matchup dovrebbe essere Relativamente facile Visto che prima Mi ha asfaltato Io ero tempo rogue Ok non avevo Chele se mi ha asfaltato Il custode ce lo teniamo Di t3 Molto forte Certo se lui non parte Con la mano di gesù cristo Molto forte Bello su deck tracker È il bomber Bello Funziona bene Funziona bene oggi deck tracker Vediamo per quante volte Devo fare questo switch Vediamo per quante volte Devo fare questo switch Vedi che non c'ho pazienza Io di fare sta cosa Ok Perfetto Tra un po' cari lo rimongo Tra un po' lo rimuovo tantissimo Non abbiate paura Sì Sì Probabilmente sbaglio qualcosa Il che è evidente Il che è evidente Pertanto Via Perfetto Ci serve più a niente Ci serve più a niente Le sigarette sono cariche Carissimo Ho già capito l'andazzo Di questa serata Sono carichissime Pensavo di non impazzire subito Invece adesso sarà un esponenziale Un'escalation enorme Bella la canta spirit Ombra del turno Beh Caro mio A meno che lei non ha Il bucaniere backstab Questo potrebbe essere Tranquillamente La win condition che abbiamo noi Non è partito di Keleset Il che è positivo Certo Bucaniere In two Backstab Mi Mi contessa Lo 07 Che non è positivo Ripartire a bordo vuoto Col custode In two Canta spiriti In two La che è un qualcosa Che mi aggrada l'animo Ecco Come non avesse mai fatto Arturo Grazie caro Finalmente Buondio Abbiamo quasi una mano Che sembra una mano Canta spiriti La che è bellissimo Non mi sembra vero Io ti faccio vedere il top Ti faccio vedere Che devi rosicare Lo provo il sigaret mage dopo Caro Lo posso provare Quando trovo un mazzo Che mi gira un attimo bene Vorrei rimanere su quello Per cercare di puntare Capito Sì signore Però berdi un sacco Di risorse Avrei probabilmente Dieci corridori In mano Allora Il discorso cari È molto facile Molto facile Ci giochiamo subito La che è Rischiando però Che ce lo possa silenziare O andiamo De canta spiriti Allora io andrei De canta spiriti Mi terrà il coin peraltro Nel caso in cui Dovesse fare XS7 Andiamo di defile E li tradiamo tutto Il problema Serio Grosso Sono assolutamente I corridor creeper Sono seriamente I corridor creeper Ah il coin Anche per la distorsione È molto Il coin mi può servire Anche se topback O cooldown di case Ce lo possiamo tenere Perché vado sempre indietro Con sta cazzo di segna Ora Backstab S7 La soffro Va bene Andrò probabilmente Di defile Non penso Mi possa lasciare Mai ombre In contestata Ok Sfioriamo il ridicolo Lo sapevo Si sfiora il ridicolo Stasera Perfetto Si sfiora il ridicolo Ottimo Si 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 sfiora il ridicolo L'ho già capito Io l'ho già capito Ma non è tanto Il motivo Per cui ho giocato La biura E perché giocarla La biura Nel frattempo Fa quello che volevo io Ora Non mi gioca il corridor creeper Dalla mano Bondione E due In realtà Nei tre No non ce l'hai Corridor creeper Grazie caro Allora signori Sto deck peraltro Non gioca il dark pact L'avete visto In realtà non l'avete visto Perché mi si è minchiato Il deck tracker Non gioca il dark pact Quindi Non ce l'abbiamo Non ha Signori Non ha lo spellbreaker Non mi sembra quasi vero Non mi sembra quasi vero Ce l'ho io lo spellbreaker Mù me lo silenzio da solo Proprio in gesto Di 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 Cattiveria Perfetto E' tutto assolutamente sotto controllo Vado di ghast Voglio canterare qualsiasi Cold blood Ma non penso Abbia Cold blood Mi dia mi dia Mi dia mi dia Niente Zer Giustamente cari Come mi Presupponevo Non c'è niente Buonasera Tarramon caro Buonasera Tarramon caro Buonasera a lei Gioca altri deck forti come Agropala o Razzagus Ehm Caro ti assicuro che questo è un deck molto forte Molto forte Molto forte Io penso che abbiamo Abbiamo la valuable silence Ma probabilmente voglio tappare Silenziamo Value trade Value trade Lui si rimane con un 7-7 Ma penso che ci sta tranquillamente Value trade Value trade Faccia faccia Incredibile Si è incazzato quasi Perché niente Darpact Caro il deck Non è un cube Ehm Non è un cube lock È un control Pertanto non gioca il Darpact Non Non ce l'ha Insomma Ora Troviamo secondo Voilord Oh Viceversa Nel frattempo Mi dà fastidio Il coso del Dell'hunter Che è abbastanza chiaro Dicevo Troviamo Anduin Anduin non esiste Gul'dan decay Grazie caro E vinciamo Perfetto Ehm 3 4 5 6 3 4 5 6 6 3 6 5 4 5 6 Tatto cari Dove traddo Traddo Eh È la stessa identica cosa Questo chiaramente Lo rimuoviamo Lo andiamo a fare in culo Certo se c'è un altro bomber Potrebbe darci fastidio Ma sta partita Ormai Difficilmente La perdiamo Anzi Non la perdiamo Ciao caro, ciao Golden Ciao caro, a lei buona serata Più essenziale Umbro Taldaram Ce l'hai caro, ok In questo deck caro in realtà La Umbra La Umbra Twisting Nether in tranquillità? Volendo posso anche traddare Però in realtà vorrei Ste ametiste le vorrei un attimo valorizzare Potrei fare Twisting Nether coin Ripartiamo con D3, certo è poca roba Però comunque è un pezzo in campo Turno dopo andiamo tirando in Decay Ripeto, vorrei un attimo Baffare le ametiste Anche se comunque abbiamo i 3 diro power di Golden Decay Che sono fortissimi Allora è caro, prego Salve carissimo, spero solo di vederla contro un ipotetico E volo shaman per la sigaretta Sai caro che non vedo l'ora manco io Non vedo l'ora, cioè non vedo l'ora Insomma abbia pazienza Però insomma sarebbe interessante Le hanno donato 500 euro Io sono sardo caro Lei è sardo Ma ora controllo eh Oh signora Ok è arrivato il momento cari per la nostra ametista di essere buffata Non penso di giocare a Golden Decay Ancora con sto anni Non penso di giocare a Golden Decay in questo spot Fuoco infernale Ametista Profanazione Pulisco In realtà posso anche lasciarmi il 3-1 Non penso mi da così fastidio Giusto? Tanto i Bormen ne hanno giocati entrambi Sì potrebbe giocare a Shadow Step Però insomma investi in una profanazione per un 3-1 Non lo so Sono tre danni meno C'ha quattro carte in mano Gioco Golden Decay Mi serve ancora profanazione Io magari direte no Atrix è ossessionato dando in Decay Sì lo so caro Chiamo tutto dando in Decay ormai Anche la Miriana la chiamando in Decay E lei giustamente non capisce Come possa capire Qual è il tuo mazzo preferito del meta? Ecco A quello che proprio ti diverte È sicuramente il Big Spell carissimo Il mio mazzo preferito mio non esiste Perché non riesco stasì sono veramente A trovare una Una good run Si dicono così Quelli più professionali Una good run Non riesco a trovarla Non riesco assolutamente a trovarla Quindi Boh Cioè Gioco un deck Funziona Poi chiaramente viene abbattuto E perdo miseramente Tantissimo Hai visto il King's Bade Il roga che gioca Colento? Caro ieri Colento L'ho visto tutto il giorno Tutto il giorno Mi sono rivisto ieri notte Tutto il VOD Tutto il VOD di Twitch Ah carino Tappiamo? Ma sì Bello il VOD Caro Buongiorno Lei caro va da puttane tantissimo Ho sbagliato Ho sbagliato cazzo Dovevo tradare la 3-3 Ho sbagliato tantissimo Ho sbagliato tantissimo Scusatemi Che cazzo ve ne frega Poi ho sbagliato tantissimo Ma proprio In maniera Enorme ho sbagliato Ho fatto una stronzata E rossa La vinceremo lo stesso La partita Ma non era mia intenzione Fare una cosa del genere Tantissimo Uh quanto ho sbagliato Uh buon Dio Ho fatto malissimo Ma è stata una cosa caro Caro mi manchi Grazie caro Non la conosco Ma anche lei L'ho sbagliato proprio In una maniera Clavorosa Vabbè Insomma La vinciamo lo stesso Però insomma Vedi Potevo comportarmi Di certo Molto meglio Fatemi ragionare un attimo Se no io Stavartita non ne esco Voi Siete consapevoli Che se c'è un silence Abbiamo perso Se c'è un silence Abbiamo perso Porca troia Di quel cazzo Di condizioni di merda In cui mi sono trovato adesso io Sono un coglione Sono Sono un coglione Sono un idiota Sono veramente un idiota Sono un bastardo Sono un figlio di puttana Sono uno strozzo Sono un coglione Un Pellegrino Io gioco Gul'dan di K Mi tradda il 3-9 Con il 9-9 Mi tradda tutto Tutto Ma porca troia Se c'è un silence La merito di perdere Tantissimo Stavartita Ma tantissimo Tantissimo La merito di perdere Ma proprio tanto Sì no no Ma se c'è un silence E perdo Che volano Che ho sbagliato io Tantissimo Cioè volevo Vi giuro Tardare la Sonia E che Ancora cari Io dovete capire una cosa Non sono in grado Perché poi è giusto uno Non sono in grado Di parlare e giocar Nel medesimo momento Cioè proprio devo Non lo so Ma è così Sono consapevoli Della mia situazione Non riesco Mi devo un attimo Sviluppare Ecco La finiamo? La finiamo? Sì Mori Facciamo la stessa Rode prima Mattia eh Sarebbe interessante Da parte sua Vaffanculo vai Che poi mi sa che Non mi da due Voilord O sì no sì Già mai Già mai Già mai Nel video le vinci tutte Vabbè Quando faccio strozzate Lo ammetto caro Le invito a Parma Che facciamo razzia Razzia? Mi vedi caro Non vedo l'ora Comunque sì La partita Non dovrebbe essere Un problema ormai Ecco Shadowstep su di lui Insomma non è poco piacevole Ma perché trad? Da shadowstep 2, 4, 5 Devo usarlo prima di tradare Giusto La cosa che La cosa che ci salverà tantissimo Il culo È chiaramente Doveccare in zotto 3, 4 Ci salvano tutti questi Couns Che couns Questi cazzo di town Che abbiamo Il lachè adesso Serve veramente poco Vi devo un town Buono In realtà no Meglio 1, 4 3, 3 1, 4 Lo contesta con la 4, 5 Meglio 3, 3 Beh Va bene A Parma ti aspetto Anch'io caro Quando vengo a Parma Facciamo La cosa di gruppo Il messaggio è stato sospeso In attesa di essere esaminato Se l'autorizzi verrà pubblicato Nella chat Chi è qui? Ah automod Pensavo fosse un cristiano No no Autorizzi 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 Troppo buono Troppo buono Quindi Ora prenderò un zotto E vinco Mi basta qualsiasi top deck positivo Sto 20-20 qua all'oscurità Vuole veramente fare male Ecco infatti abbiamo vinto È chiaro Ma non è giusto Vincerla così Io ne sono più che altro Consapevole E caro Salve Salve Ciao Caro Verrà in Calabria Caro Ma io vivo in Calabria Io vivo in Calabria Io c'ho la ragazza Di Reggio Calabria Io sono calabrese Per tre quarti Ho studiato a Catanzaro C'ho la ragazza calabrese L'amante di Cosenza Adoro la Calabria Amo Amo Ma sono a me Si blocca live Caro La Oh ma chi è che rompe il cazzo Provi a abbassare un po' La qualità Stai poi mi escono foto Ambigui dal cellulare Non lo diceva a Miranda Che si sta a lave i capelli Tanto non sente Altrimenti non aveva manco detto Dell'amante di Cosenza Sia chiaro Saluto l'amante Se ne ascolto Sì 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 Anche io di Reggio Lei è di Palmi caro La ragazza mia È di Palmi È di Palmi Io sto per superare I viewers di Amazon Vabbè sono contento caro Però vabbè ci sta L'amante di Cosenza Vieni a Cosenza Che ci facciamo una birretta Caro ripeto Vengo spesso e volentieri A Cosenza io Allora Fatemi ragionare Per l'amore di Dio Sennò qua iniziamo a farlo Non sapete come se buferasse Dimmi Mi di alla che Dai Voi il lord No l'avevo levato E non volevo Vabbè Comunque Abbiamo ancora Una speranza per la che Il brutto è quando ci avete Due volte o rimano Lì viene veramente Voglia di farla finita Come mai sei finito A Catanzaro a studiare Per l'amante di Cosenza caro Poi Cosenza a Catanzaro In un attimo Catanzaro Mi sono contato con Miriana La prossima sarà probabilmente siciliana Poi si va verso l'Africa Non lo so Caro Un monsanto in Sicilia Mai Per l'appunto caro Sono andato in Sicilia Poche volte E Oh rega ma Chi è Aspetta un attimo Chi è che mi sta a scrivere Ora mi ando a fare il culo diretto Faccio un audio Questo è Tatillo Che rompe coglioni È Tatillo Tatillo Eh ma buon Dio Tatillo caro Ma si dia una regolata Eh che caso Ho silenziato tutto Via Sto Sto smoccolando Smoccolando caro Mi pare che un termine Toscano Cioè lei sta bestemmiando Mi pare che Molte volte io faccio smoccolare la gente Perché dice Ma ti mi fai smoccolare E poi spara un Dio Quindi ho fatto Diciamo una specie di Di sillogismo automatico E Ma non è vero Da dirlo caro Lei veramente Lei è una peste Lei è una peste Ok Sì certo C'era l'eventualità Di giocare coin Vape Ma sarebbe stata assolutamente Una giocata senza alcun tipo Di senso Ritegnologico Va a dirlo power Mi tratta la 2-2 Andiamo di vape Ripartiamo al 1-3 Col custode Lo spezzano a G E cari Ora peraltro Non lo salva nemmeno Bocaniere backstab Vi invito a notare Sì no no Stallo Stallo via Altrimenti non lo possiamo usare più Sto signore qua Tattillo untore Caro io sono di La Mezzia Terme A quanto una birra Insomma vengo Torno in Calabria Ragazzi Membriaco Adesso abbiamo capito questo Non ha il coin Vero quindi è mia Mi dia la che Mi dia la che Faccia un hit Contro 0-7 Caro Me la sento cari Sto deck Mi regala Un streak Final Legend Me lo sento Non mi è venuto Adesso sta Bello che non sto Topdeccando La darkness Lì perché sarebbe Particolarmente disagiante Bello la che In topdeck Qualcosa mi sta girando Non mi sembra così vero Ciao carissimo Sono presente anche oggi Per sentirla bestemmiare È arrivato Caro Nel momento giusto Nel senso Si è perso una Sei uno schiatta morto Caro che sfiga Che scarogna Vabbè Non che vada poi malissimo Carino non so Ora Il silence Potrebbe Destarmi preoccupazioni Potrebbe Mi desta Tante preoccupazioni La cosa che mi farebbe Impazzire È il topdeck Di Voilord E mi capita Spesso e volentieri Anche questo Ah ok Ok La caro ma cosa Buon dio Ah la vilerba Va bene La vilerba La vilerba Ci sta Ci sta Ci sta È giusto È giusto È giusto Bra 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 Ci sta Va bene Spezza Tracker Però prima Però prima Si è sfanculato Si è sfanculato Mi dava Un deck Che non era il mio Con i corridor creeper Con cose particolarmente strane Cioè mi dava una specie di fusione Lei o è sulla schiena del buratello Oppure c'ha un mancliffe che se lo vuol pompare Ma io gli tappo veramente No 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 Non è vero Ok Ci sta no Boh Il fatto è questo Che giocare contro il bomber Penso sia esistenzialistico Non c'è modo Con defile Di traddare tutto Va bene Va bene Regato abbiamo resistito I due turni Come famo? Sì ok Abbiamo calderato il bomber Il problema è che lui probabilmente Adesso mi metterà Ok Finché lui va benissimo Finché solo lui va benissimo Finché solo lui va benissimo Penso di non tappare più Sapete Lui lo gioco Dammi lo Sperson Questa in realtà va bene lo stesso Va bene lo stesso Perché mi stalla il turno 8 Giochiamo Difensore Più Tauntix Voilord Zot Vinta Leroy Shadows Dio caro Dio caro Vinta Vinta È vinta Vinta un cazzo Mi serve un taunt subito Ancora sto liberando di merda Va bene Chiaramente indeboliamo lui Per il Voilord Oh Chiaramente la Vilesprin potrebbe traumatizzarmi Anzi con la Vilesprin Ha grosse possibilità di trovare l'Ital Firefly Vilesprin S7 Io canto Io canto Malissimo Entro e sento Dio caro Sì Ancora sono di buon umore Hai mai pensato a miniatura in Calabria Ci sto pensando adesso Visto che sarei tutti calabresi Mi sono subbato da poco Sì caro Adesso ringrazio tutti Nel gruppo delle Gramme le invito subito Nabbo Inviti caro Comunque sì Il deck tracker è sfanculato Lo so caro Ma una partita con l'Hunter Caro Vi ripeto Per ora con questo deck Mi ci trovo abbastanza bene Certo La temperatura supera 81 gradi Ma si fonda Fa niente Vilerba Seriamente Malissimo Mi fai Mi fai malissimo Malissimo L'ho sperso Mi esce adesso Siamo seri Ho perso Parca troia ragazzi Mi è impossibile Non posso manco giocare Librarian Perché muoio Uno Due Tre Quattro E' l'unica Sì ma vince con l'Iroi Vince con S6 Vince con un sacco di roba Bastardo Incredibile Guarda incredibile Quanto è remota La possibilità di vincere Quanto è remota Ma vaffanculo a te A quella puttana Di tua madre Guarda lì Di tua madre La zoccola Dio caro Grazie THC Grazie caro Grazie caro Grazie caro Spence on the file Sì caro E' l'unica giocata Da fare in quella situazione La Oh Ma mi capitasse Una volta Che cotto un matchup E' il genere Quando gioco il tempo Rug Ma mi capitasse Veramente una volta Io chiaramente Se vedete degli errori Eccetera Contestate Ditemelo pure Ditemelo pure Assolutamente Creiamo un dialogo Propitevo Didattico Tra di noi Però insomma Io ripeto Eh more Costruttivo Ma che vuoi costruire Ma che vuoi costruire Ehm Allora Ero rimasto A ringraziare Ehm Ok Ok Grazie a Luffy 13 Grazie a Calo per il sub E grazie a Daniera Rega sono tanti Quindi abbiate pazienza Ma ci tengo a ringraziare Grazie a Delmut 16 Grazie a Dado Per i suoi 2 euro Non sono tanti Come l'altra volta Ma in qualche modo Voglio solo supportarti Carissimo L'hai già fatto Seriamente Grazie per la risposta Su Facebook Doverosa Doverosa Le piace lo stream di Toast Io penso Caro che Toast Sia un genio Grazie a Capo Gibe Grazie a Calo per il sub Grazie a Anonymous Altri 2 euro Un piccolo pensiero Ah ma Anonymous Non è un Ah Ma Anonymous È uno che non c'è il nome Dicevo ma St'Anonymous Chi è? Mi madre Che mi dona così tanti soldi Un piccolo Mo l'ho razionalizzato Un piccolo pensiero Per ringraziarti Perché dopo una durissima giornata di lavoro Mi fai rilassare e divertire Come si deve fare Anonymous Caro Grazie Questo è il mio principale fine Grazie Vorrei rendere la vita Un po' Più leggera In generale Non a me Ma Fa un sorriso Una cosa Grazie caro Questo messaggio L'apprezzo tanto Daniele D'Alone Grazie caro Anche a lei Per il sub Grazie a Dentoni A Remida 97 Grazie a Typhon Dello stesso anno di Remida Grazie a Luca Keys Grazie a Sergio Vertore Grazie a Maujumper Grazie carissimi Per il sub Volevo studiare per l'esame No caro Non si studia Non si studia per l'esame A Via Reggio sono andato Lo sai? Anzi sono andato a Forte dei Marmi Dall'altra amante Tende Caro Grazie per il sub Grazie a Camino Grazie a Kamisama Grazie a Matthew Fire Per il sub Grazie a Unrealf E grazie a Emand B Grazie carissimi Per il sub Poi Leggo Piano piano anche gli altri Stavo Cliccando su OBS Chiaramente non funzionava Vogliamo la felicità di Milano Per la cena giapponese Quello costoso Sai che alla fine Non ce l'ho portata? No perché poi Dopo la live Mi sono intenerito E dico Amore vedi che ti porto lo stesso Non è vero Pizza da Just Eat E via Spacchette 5 pack Mi sono scordato caro Penso sia Mi sono scordato Ragazzi come vedete Nel frattempo Si è sminchiato Tantissimo Il deck tracker Quindi Lo levo Cioè nel senso È più forte di me Lo riprovo a rimettere Ma Ok no ci sono riuscito Ci sono riuscito Ci sono riuscito Oscurità contro prete Grazie caro Micchia Grazie amico mio Geniale Fantastica Aspetta che potrebbe essere Un big spell Sti cazzi Grazie caro Sono contentissimo Madonna Mi dia una gioia Mi dia una gioia Ma perché mi esce il corridor creeper Warning Cars not found in deck tracker Ma non ci stanno È normale caro che non so found Ma via venia È normale che non ci stanno Non so found Andi a fare il culo Vogliamo vedere la miriana More Carissimo che mazzo è È un control lock caro Che gioca i due Lacche Due Voilord E oscurità per counterare I preti Quindi sto contro prete C'ho il voil C'ho l'oscurità Il prete È sì Counterato Ripeto A meno che non sia un big spell In quel caso Poi la cosa un po' si complica Anche perché sto deck Non gioca a sefonsul Quindi Non è perfetto Non è Oh caro sì L'aspetto tantissimo Sì signor Tappiamo Vediamo se prendiamo L'ametista Magari Fa cinque danni Sì Mai nella vita Prova bello stesso Oh buono anche il Geist Peraltro Contro lui Buono molto anche il Geist Io non te lo faccio Giocare a Kazakus Caro Io non te lo faccio Giocare a Kazakus Mai te lo faccio Giocare a Kazakus Mamma che bella Sta sensazione Di giocare all'oscurità Contro il Razakus Ora magari Top deck era tre candele Una run e run All'altra Bello anche la che Oh Oh Madonna mia Qui Sento Non to becca le candele Bravo Mi interessa il codice Ma cosa buon Dio fa Ma cosa buon Dio fa Burlone Burlone Ma che cazzo fa Caro Che gioia Posso anche concedere Dopo sta situazione Posso anche concedere Dopo sta situazione Vai Sto gioco poche volte Mi dà gioie Quando me le dà Le vedete Perché non mi sembra vero Non to becca la candela Grandissimo Cazzo Giochi Razza Faccia all'uomo Giochi Razza In tempo play Per farmi danni in faccia Giocala Sto avvelenato Sto avvelenato Sto Fammi scurrire Candele Stiate dentro Stiate dentro Sto avvelenato Mo fammi ragionare Allora signori Qual è il problema Del ghast Se io gioco il ghast Gli tolgo L'espella 1 Che è importante Però Aumentano le possibilità Di dovdeckare Una candela Giusto? Giusto no? Ma è troppo forte il ghast Non giocarlo Ce l'hai in mano Uh sì che ce l'hai in mano Caro Uh sì che ce l'hai in mano Ok Se niente candela Ogni volta il tuo becca Mi viene una cosa A quel cuore Mi viene proprio una cosa Ecco il giocatore Medio di Razza Sì caro Purtroppo giocano Un po' a cazzo È chiaro Cari che campione Avete scelto? Non lo so C'è nel senso Caro Cosa in Ah sì 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 Ho capito Ho capito Ho capito Caro in Toscana Quando torni Io sono a Pisa Caro attualmente Io sono a Pisa Perfetto Il voil d'orolo Non ci serve più Assolutamente a niente Trade trade Non voglio tappare più In realtà Sapete eh Non penso che ho bisogno Di tappare 3 4 5 6 7 È la giocata che faccio Certo soffro un po' Physics Scream Quello sì Tanto appena Topdeca la candela Me lo uccide Cosa da World Death Quello è abbastanza chiaro Uh signor Razza Evitiamo che possa fare un circolo feeling grosso come una casa Certo avrei preferito Velen Perché l'avrei trattato poi tutto con The File Velen Gli avrei diciamo in qualche modo smicchiato la win condition Anche se ancora non to becchiamo candele Questo un po' mi dà fastidio eh A verità Però mette carte Ametista Carina Arin Uh signor Carina Poplarin Ripeto cari Non voglio tappare Ok Buono Buono Cari che campione mi hai scelto se hai perso le domande Beh Inizio a preoccuparmi anche senza la razza Voi capite bene adesso eh Particolarmente Io non so se ho sbagliato l'ho fatto apposta Sapete Seriamente non lo so Penso che non sia così Stronzo D'aver sbagliato di nuovo Ok ho bisogno assolutamente di Il Mistress Grazie Ma E così basta chiamarla Un po' un attimo in difficoltà Sapete 6 7 E se mi silenzia la mistress Sono cazzi miei poi Vero Se mi silenzia la mistress Come cazzo me faccio il 3 4 5 Eppure non gli faccio faccia Sapete Non è facile Ragazzi qualcuno mi passa il link per votare E caro Non ce l'ho io Non ce l'ho No comunque Michele penso che l'abbia fatto apposta Perché dai Non penso veramente sia così Pazzo Il problema della mistress È che se io non me la uccido E chiaramente mi devo fare un po' di heal Lui O con la Bosch No Bosch No Però se me la silenzia Sono cazzi Io non posso chiaramente dappare E peraltro Io devo giocare anche un minimo attorno a mass dispel Quindi devo trattare la razza Assolutamente Passare il turno Tosta eh Particolarmente tosta È tosta perché comunque con l'euro power Non pensate che sia poco aggressivo Però perlomeno ecco La cosa positiva è che darkness Ha fatto la sporca figura che volevo Cattivissimo Ok questo te lo silenzio all'istante Metto un po' di bordo Se non Se non gli puscio danni Io non Non me la da Vabbè che tanto adesso Non mi serve un cazzo la candela Quindi in realtà Può tranquillamente pescare tutte Ha giocato razza Kazakus Ha giocato razza È finito Insomma queste c'è a lui Quindi No ma la razza Cari io penso che veramente Non mi dite che non l'ho fatto apposta Perché non ci credo L'ho fatto Per mettere un 5-5 No Niente Manco andu indi che mi dai caro Manco andu indi che mi dai Sono problematici Io devo giocare attorno a mass dispel Assolutamente Assolutamente Gioca mass dispel Sono 4 danni Sono troppi Sono troppi i 4 danni Non ne esco Ah signor Vabbè tanto ci ha lasciato World Death Sicuro Sicuro come la morte Ci ha lasciato World Death È matematico 2 4 6 Io penso che 3 6 7 8 9 10 12 15 15 Ah poi la guardava Tantillo dice che non l'ha fatta apposta Perché poi dopo la guardava Ok Ci sta Però così non mi fai 2 danni in faccia Va benissimo Cazzo va benissimo Va benissimo Mi ha attaccato di brutto Mi deve dare caro Mi deve dare lei Qualcosa che mi è utile No Non mi è utile Dragon Fair Potion pulisce 4 Dragon Fair Potion pulisce tutto C'ho 3 1 3 Sono 3 danni Non ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha ma Deve traddare il 4 1 C'ho lo stronzo delle torte Siamo 1 off Buon Dio Siamo 1 off Buon Dio No No Non me lo dica 4 5 6 7 8 9 10 Sono 1 off Siamo 1 off Eh raga Io qua ora Sicuramente vado di ratto Potrei Tappare Per pareggiare la partita Ha poco senso Penso Vado di ratto Lui deve utilizzare 3 carte Problema sapete Qual è Mass Dispel Ve lo vengo a ripetere Perché con Mass Dispel Vince 6 4 5 6 9 10 13 14 Se ho misso 5 danni Che c'ha Mass Dispel Ha vinto Perché sono 2 4 Deve trovare altri 4 danni Anzi In realtà basta semplicemente Che c'ha la Spella 2 Oppure la Spella 1 Oppure questa qua Semplicemente Vabbè Vabbè cari Penso che non c'era Proprio verso Non ho trovato il cazzo di cure Non trovi le cure Non riesci Porca troia Porca puttana di una troia Lacca schifosa Non riesco a arrancare Non ci si può credere Non riesco a arrancare Ragazzi Non riesco a arrancare Mica Non riesco a arrancare Boia di Dio Non riesco a arrancare È incredibile Che cazzo L'undice del mese Non riesco a arrancare Permesso Tatillo Tatillo Ma va a fanculo Va Non riesco a arrancare Ragazzi Non riesco a arrancare Analizza un attimo La mossa Che mossa Cata Che mossa caro Ah si Non perdevo Capito La zagus Se anche così perdiamo Bella domanda Boia Fa niente Do you know the way No caro Non lo do Non ti vedo online su HS Aspetta eh Probabilmente perché mi sono occultato Ecco ora caro mi dovrebbe vedere Comunque facciamoci un'altra Dai vaffanculo Provocale Se il summon priest Caro ogni cosa che le dice Va bene Lo proviamo Lo aperti Ammazza caro Lo aperti Come stai? Bene 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 Sto bene Comunque Mattia mi dicono Che dovresti usare Il Il control warrior Di Meliador Che è arrivato In top 200 Mi passi la lista Che lo usiamo subito? A voi La luce porterà La vittoria Nel mentre caro Grazie a Luca Grazie a Sergio Vettore Grazie a Maujumper E attende Che avevo già ringraziato Ma cari perdonatemi Ma non mi ricordo Mi ricordo dopo Grazie a Camino Grazie a Kamisama E a Matthew Fire Per il sub Grazie cari per il supporto Grazie a Realf A Emand A Beritor E a GB Per il sub Non che grazie All'Orsacchiotto E a Enrico Anonymous 10 euro Cari promettete il nome Anonymous Grazie caro Chiunque tu sia Grandi dattenitori E creatori di contenuti Grazie caro Veramente Apprezzo molto Apprezzo molto Apprezzo molto La mano va bene Perché non topecco lo sghigno Non voglio vedere Guarda me l'ho culto Samuele e Diego Grazie cari per il sub Entrambi Grazie a Uber Grazie a Zarsem Grazie a Over Raga ma non è più facile No Tipo Gian Piero Gian Franco Gian Maria Gesù Cristo Grazie a Gnek Grazie a Spruzzo Lo vedi Grazie a Spruzzo caro Grazie per il sub Grazie a Bosca E a Pisquan E grazie a Baragus Grazie carissimi Controtempo Rogue Quindi li fa con Caleset Noi ci curiamo Gioca Bucaniere Abbiamo perso Giusto? Giusto È giusto È giusto È palesemente giusto È giusto Ah non avevo pensato Lo shadow Steppe è chiaro Chiaro Provo che sta lì Sta fatta da me Va bene Può ancora non avere pirati Mannaglia dios però eh Mannaglia dios Mannaglia Mannaglia oh Mannaglia veramente Oh la madonna Defile No non ce l'ho Dammi un drago Value trade Firepower Siamo comunque Sulla schiena Del buratello In maniera clamorosa Se non peschiamo Chiaramente Un drago Se non peschiamo Un drago Siamo in maniera Ci siamo messi In malissimo Con un drago Cari La giocata è fortissima Perché mi gioco Pure l'orrore Di unicoli E partita vinta Mi dia un drago Qualsiasi drago Non è importante Value trade Ci sta Mi dia un drago Oppure la summoner Va bene lo stesso Ok Chiaro Giusto 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 Sulla schiena Buonasera caro Ma riporterai Su youtube Caped Caped appena Avvano il joystick Avevo intenzione Di finirlo In streaming Qualora diciamo Io Riuscisca Nel finirlo Qua se il trade È giusto Però non ha tradato Dammi un drago Caro Aspetta da dirlo Caro Scusi se non la cago Però insomma qua Capisce che la situazione È particolarmente Disaggiante E disastrosa Spezza Che ci faccio io Di lei Se non mi top deck Un drago Evocatrice astiosa Per quanto può essere Forte in un deck Del genere L'evocatrice astiosa Non vi dà mai Taunt E quindi capite bene Che con 9 danni In board Va di S7 Tradda col Che è l'eset Come fai a non fare Questo trade Non lo fai E fallo Ci devi pensare Perdo da l'iroi Perdo da l'iroi Ma cosa devo fare Cioè cosa devo fare Cosa devo fare Cosa devo fare Taunt non me lo dai Manco morto Perché non esiste Il taunt Cosa devo fare Quattro carte Doppi S7 O l'iroi O chiaramente Bomber Questo è chiaro Ah che male Madonna che male Signore che male Comunque Matti Tu vuoi far notare Che ti ha usato Razza al turno 5 Anche i giochi Caro lei è un bastardo Io non mi ha detto qualcuno Lei è uno strozzo Anche in chat Ora sto leggendo Anche in chat Te l'hanno fatto Sai che posso ancora Raccontarla Stavartita io Se non prende l'iroi Vuol dire Se non ho top di capo Perché con l'iroi Avrebbe vinto il turno Prima Quindi A meno che non sia Il BM del secolo L'iroi non dovrebbe averlo Vince anche con Bucaniere Shadowstep E ogni pirata Aia Ogni Che ma Dio Madonna Manco lui ci crede A quello che ha appena fatto Non ci posso credere Nemmeno lui ci crede A quello che ha fatto Ma porco Dios Nemmeno lui ci crede A quello che ha fatto Ci ha pensato Raga ma che cazzo Devo fare Ma cosa devo fare Ma poi Che urlo Che devo fare io Che devo fare io Madonna lebra Che devo fare Ma che devo fare Ma no non bestemmiare Che Twitch mi banna Non me ne fate un cazzo Banna mi Twitch Ma non ce la voglio Stare su Twitch Mi tolgo su Youtube A bestemmiare Che cazzo devo fare Ma che stiamo Veramente scherzando Ma stiamo veramente Impazzendo Cioè perché mi devo Poi c'erlo senti male Che poi vedi Me lo dicono lì Il coso Dermateutica Mi dice Ti escono poi I capillari Dalle cose E ma che devo fare Dermateuta Che devo fare Ma ti Prova il Control Warrior Da dirlo Non ti sento Caro Non ti sento Quindi parla pure Tanto non ti sento No Ti ho manato la lista Del Control Warrior Meliador Io sono In una In una situazione Di transito Nella vita Cioè Ho dei dubbi Esistenzialistici Ho seriamente Dei dubbi Esistenzialistici Proseguo Della mia esistenza Perché non è possibile Seriamente E io vi invito A dire Dio caro Vi invito Vi invito A dire Se c'è un modo Per vincere questi matchup Vi giuro Porca puttana Sono contento Ci siano Ho fatto una partita L'ho giocata male E l'ho vinta Quella chiaramente Del trade di Edwin Dopodiché No non ho bestemmiato caro Ho detto Dios E se dico Dio È normale Perché l'S è muta Però si scrive sempre Dios Puoi andare tranquillo Sempre Dios Si scrive Io ragazzi Veramente So contento Perché poi escono le clip Certo Cioè io vuol dire Vuol dire questo Che Che io domani Io giuro su Dio Che domani Non faccio un cazzo Gioco dalla mattina Alla sera E questa che Manu è per esempio Per chiedermi No Uno si alza E si chiede Ma questa che Manu è È la Manu che ti merite No Molte volte Non puoi proprio vincerle Lo so caro Lo so Lo so Però mi succede Particolarmente spesso Non crede Cioè nel senso No Ora Voglio un attimo Io Non sto registrando probabilmente Però vorrei riscorrere Tutte le partite E cercare Di vedere Se mezza partita Si poteva vincere Con una giocata diversa Il problema Sapete qual è? Che io Non le gioco nemmeno Perché se ho delle mani Così statiche Non riesco nemmeno A giocarla la partita Perché cosa gioco Se c'ho Se c'ho 10 cose in mano Che non posso giocare Cosa gioco? E prima mi do Spezza Tene Per nomi dei draghi E nomi dei draghi Dove sta il filtro? Vabbè Ma ti ti chiedono in chat Si caro Mi dica Come mai Nei video Ne vinci tutte? Regà Gioca Un cinese Che adesso Sono sotto al tavolo Che cazzo Vi devo dire Non lo so Non lo so Infatti ho dubbi Esistenzialistici Non lo so Non lo so Non lo so Ah Un'altra cosa importante Ma so Che voglio dire Per il Death Tracker Lo devi far partire Nel menu Di Edson Ma ti fotta Caro Il Death Tracker Si fotta adesso Ma che A che serve Vedere le carte Attualmente Serve assolutamente A nulla Sì sì Assolutamente Sono interessanti I Terroride Cunicoli Che comunque Sto sbagliando Dall'inizio stream A denominarli Ma non è una novità Beh che se lo tenga Per cosa se lo tiene Per giocarlo in combo Con la Vilerba Mi viene giusto Da dire No È chiaro Che Eliseth Vilerba E lì veramente Mi dà la stangata finale Mi dai T'ho beccata Peraltro No Per fortuna Meno male Perlomeno quello Mi dai lo spezzatenebre Che vinciamo sta partita Caro Mi dai lo spezzatenebre Che la combiniamo Da Dimmi Da Niente Va bene Che il discorso Peraltro qual è Che non posso manco Utilizzare il coin Per curarmi Altrimenti non posso giocare Il bomber il turno dopo Capita Questo è il discorso Oppure certo Sì potrei non giocare Il secondo orrore E curarmi Ma non mi sembra Una giocata così forte Come lo è questa Oh se mi fesso Value trade Caro io sono contentissimo Sì è chiaro Attenzione Attenzione cari Che forse la combiniamo Attenzione che forse Soprattutto col top deck Del secondo bomber Forse la combiniamo Forse la combiniamo Con la partenza disastrosa Il motivo per cui L'orrore dei cunicoli Comunque va anderfato E io penso che sia presto Visto insomma Tu c'hai l'eroe no Va bene E ti prendi però Parecchi schiaffi in bocca Caro sono contento E mo ci devo ragionare un attimo E mo ci devo ragionare un attimo Allora Cos'è che mi punisce Se non traddo Ha una carta in mano Ora cerchiamo un attimo Di scovare pure quella che potrebbe essere La mia win condition Il turno dopo Io vado faccia Sta 9 E vinciamo Se ha due carte in mano In influenti Che vuol dire influenti Che non è Che non è la bilerba In qualche modo Che può proccare L'eroe vince L'eroe non vince L'unica carta Grazie alla quale vince È lo spellbreaker Ora Facendo un discorso Proprio probabilistico Qua la winning play È andata faccia Giusto no Qua la winning play È andata faccia Perché mi faccio dubbi assurdi Vince anche con il diro Isha No No Perché Deve usare l'ero power E sta a 9 L'angolo di altri Che skill Grazie caro La grippa Poi me la rivedo pure io Ah Fanculo Io caro Dimmi tu Per vincere una partita Io devo impazzire mentalmente Scusa amore Mi porti una sigaretta Per favore È un accendino Per l'amor di dio Oddio mio Sì cari Se non andavo faccia Perdevamo molto probabilmente Vai safe No no caro Non è il fatto di andare safe Perdivamo Perdivamo Perché se io andavo in trade Lui poteva traddare Con l'ero power Il mio bomber E mettere poi Così in campo Grazie amore C'è C'è Grazie 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 Allora il discorso Poi è un altro Ma giochiamo contro stregone Io penso Che posso tranquillamente Fare un mulligan Per il cubo O per il demon No Pertanto io mi tengo il drago Del crepuscolo Siamo tutti tranquilli Oppure levo anche il drago Per cercare di partire un po' No Il drago del crepuscolo Non lo tengo Che lette lo carano pure Se giochi a brisco Esatto caro Mi prendi pure per il culo Zattillo Cioè hai fatto tre partite E' pure un agro E' pure un agro Mi devo dare un spezzatenebre Oddio Santissimo Oh santissimo De Dio E tu vuoi portare cappeggi Bucaniere Sentente Oh a saperlo prima Mi tenevo lo spezzatenebre Però capite bene Che se io becco solamente Demon lock Tenevo solo spezzatenebre E' praticamente un mondo assurdo Quello serve il late game Per pulire dopo il Voillord Il buratello Ah Zan zan Va bene Va bene Va bene Va bene cari Va bene Io metterò questa canzone Spesso e volentieri Negli stream Quindi Probabilmente dopo due tre giorni L'avrò imparata E la canticchierò anche Siccome faccio in doccia Allora Va bene Va bene La cosa che mi sta salvando Sta partita Se puoi caro Vabbè tanto è uguale Tanto giocherò Ok va bene che mi buffi lui comunque Ehm Chi buffo Chi buffo Voglio avere bull presence Io penso di sì Ho un bel value trade sul 2-1 A meno che non vuol tradare con Con il flame imp Chi buffo Il 4-8 è fortissimo Perché il 4-5 è anche soggetto sul fire Io penso faccio value trade E buffo il 4-5 Avere 1-1-2 Quanto mi potrà essere mai utile Visto che lo parliuterà da col flame imp Po Deve andare a Sanremo No caro Mi sa che è deceduto L'interprete della schiena del burattello Più peraltro In questo video Grazie cari per i sab Beh ora ringrazio tutti a dovere In quel video C'è anche un commento Del santone dello svapo Non so se lo conoscete Vedi sul fire ce l'avevi Ah Signore Cazzo Te lo meriti in culo proprio E mo non vinci più caro Hai perso adesso 6 7 8 Come vinci Non vinci più Dammi qualcosa Che non sia un zotto O O jog E' l'ital setup Setup è l'ital Io penso che questo trader Lo deve fare Per quanto l'isa Si aggro E c'ha mentalmente L'idea di andare a tutto faccia Va bene Va bene Va bene Va bene Non si inalberi Devi traddare comunque No Fa niente Qua ritraddo tutto Gioco intorno al bomber Bufferò molto probabilmente L'8-8 La prima faccio i trade Poi penso a chi buffo Chi buffo Allora lui gioca il bomber C'ha 6 punti di attacco Giusto? Potrei Giocare intorno allo spellbreaker E buffare comunque il 4-3 Perché lui comunque Ha 6 punti di attacco Dopo aver buffato col bomber Giusto no? Quindi io non buffo l'8-6 Non soffro il silence E nel caso in cui Mi silenzio il 4-3 Comunque un 4-1 Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Dicevi sul santone caro Eh che ha commentato Perché lui è Emiliano no? Ha commentato La magia Dell'Arturo Vedete? È tutto calcolato È tutto calcolato Nel dettaglio Abbiamo vinto Non è vero Però è tutto calcolato Nel dettaglio Quindi non possiamo Perdere la partita Se la giochiamo bene Allora chiaramente gioco lui Allora il discorso è questo Abbiamo il 50 di trovare Controllo mentale O il 50 di trovare La cosa Io penso che il trade qua Mi fa vincere la partita In tutta Tranquillità Tutta tranquillità Fatti Bra Ciao caro Lo vedete com'è facile vince Quando Non dico che vi escono le carte Perché al minimo Poi uno ci deve pure ragionare Anzi uno poi è motivato A ragionare Quando ha le carte Vedi? Uno dice ok va bene Posso fare una giocata Di questo tipo Tale per cui Ringrazio tutti adesso Però senti Quando non mi escono le carte Mi passa la paura di giocare a sto gioco Capito no? Comunque 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 Vorrei farti notare Nota nota Sono arrivato io E ne hai vinto i due ditti Carlo sai che è strana Sta situazione infatti Particolarmente strana Signori io Mi prendo un minuto Per riposare E ringraziare di cuore Tutti quelli che Si stanno abbonando E ora li ringrazio E soprattutto tutti quelli Che stanno passando una serata All'insegna della follia Grazie cari E spero vi stare divertendo Che poi quella è l'unica cosa Che mi interessa E a parte il gioco Chiaramente Ci sta Oggi faremo solo Arson Comunque Perché ormai mi sono caponito Solo Arson Facciamo oggi Poi magari le prossime Siamo 2200 Miriana mi dice Manca mezz'ora Come capito Segui le sue Cere bruttissime Lei Ah vero Masterchef c'è ragione Ma abbiamo neppi conosci Lo vediamo In differita Grazie a Bosca Piscone E a Baracus Per gli sub Grazie carissimi Grazie a Teobel Per i 3 euro Ciao caro Ti offro sto caffè E ti lascio Ti lascio Ti lascio questo Keleset Druid Molto forte Con cui ho fatto Legend Vorrei vederlo in live Un Keleset Druid Caro Io me lo appunto E poi lo metto Vediamo un attimo Che tipologia di fellenia è Auguri per il Legend Comunque MrWolf91 Grazie caro per il sub RedMath 2 euro Grazie per aver letto Questa frase Grazie a Te caro Per i 2 euro Grazie mille Al Galoppo E Sullivan Grazie cari per il sub Grazie Anonymous Per i 5 euro Caro un pensierino Per ringraziare Le preziosi consigli In chat telegram Ed avermi fatto capire Di essere mezza fellenia Come giocatore Caro tutti siamo mezze fellenie Tutte Poi c'è quello che c'ha un po' più De culo E quello invece Proprio sfigatello Il mio analista Sarà contento Il mio caro Non vede l'ora Ogni volta che lo vedo Ma pure rincalato il prezzo Perché sono un caso disperato SK Grazie caro per il sub Grazie a Tarallo A Tarala A Tarallaro Grazie caro per il sub Grazie a Demo Desmoka Grazie a Gigrobo A Iravanks A Amon 992 Per il sub Grazie carissimi Grazie a Bluifenix A Bisax E grazie ad Armandone 1997 Grazie cari per il supporto Faccio una partita E poi continuo C'ho più voce 10-11 febbraio A Bologna Ma in casa comandi tua Miriana Ma caro secondo lei Signori Se non riesco a rispondervi Riscrivetemi Perdonatemi Ma c'è la chat che va abbastanza rapida Non riesco a leggere tutto Comunque comanda Miriana O perlomeno pensa di Lei pensa di farlo Bravo amore Come lo vedete in Zot Druid di Colento Caro Colento Io lo adoro sapete No ieri anche è stato fatto Comunque un suo streaming Però c'è anche da Dinna Cosa Lui è molto fuori È fortissimo Mi pare che ha raggiunto Rank 8 no? La top 8 con quel deck Però è anche vero Che comunque le carte Colenzo le vede Cioè a modo di giocarle Le carte Nel frattempo La Gerica è molto forte Contro Hunter Cioè in tutti i matchup Ha avuto sempre La puttana 3-1 Che gli dava l'arma Capito? Quello è anche da vedere Poi dipende molto Insomma dalle Comunque sì Poi è un fenomeno Fa delle cose Che tu dici Come cazzo è possibile Quale combinazione astrale L'ho portato a fare Quella giocata Questo è chiaro Questo è chiaro Normale Altri Quanti sono i sub? Caro Glielo dico Subito Non il 4-2 Oh signor Grazie Signor Oh grazie Lo spezzatenebbre Signore mio Grazie mille Che voglio? Hunter Marks Non ce l'hai Potresti averle tutte Penso messo le 6 gugi Hai giocato Oddio in realtà Potrebbe essere anche Uno spelante Lo sapete? Però penso Messo le 6 gugi Tiro multi O è trap O è messo le 6 gugi Io andrei Di solito vado a destra Però stavolta Mi voglio sbagliare Da sinistra Ecco vedi Talvolta Aiuta Non alcun tipo di senso Dovrà dare lui Alcun tipo Può giocare arma Comunque rimane incontestata La chierica Penso di giocare Cari Messo le 6 gugi In tempo play E vamo il 5-2 Va bene Va benissimo Allora Già in realtà Ha una buona value Lo spezzate Ma secondo me Ne può avere Molta di più Molta di più Il fatto è questo Che potrei levargli Le bestie E giocare Signori Intorno al suo Houndmaster Perché il coin Sarà già giocato Vedete Quindi potrebbe avere Un Houndmaster Buffare lui E poi non so più Come contestarglielo Il problema è che Non c'ho draghi Penso di giocare Comunque la gente In tempo play Non ho così bisogno Di una carta Dell'Hunter Mi piace Caro oggi è mio compleanno Assolutamente sì Tanti auguri Eltanin Tanti auguri Carissimo Tanti tanti auguri Oh se mi dò un drago Chiaramente non è che Lo infamo Anzi Se mi dò un drago Sarei anche abbastanza contento Mai Mica male Mica male Agente Dragonite Perdo un po' Da Deadly Shot Qualche Midrange Lo gioca E quindi Deadly Shot Mi potrebbe fare Male Avere un 5-6 Avere un 3-4 E un 1-6 Molto meglio Entrambi chiaramente Incontestati dall'arma Quella è la cosa Che mi piace di più Poi chiaramente Andiamo di lui Sperando che mi dia Un deck forte Pusciamo faccia Anche l'Hon Master Va bene qua Perché non riesce A contestare nulla Con l'Hon Master Certo potrebbe Far doppio trade Sulla Chierica Ci sta E cazzo Ci faccio Fimmi la sigaretta Ok Ok Sì Fa paura Rinoceronte Questo chiaramente Cari Non è che il face È il midranger Con gli orrori Dei unicoli Che potrebbe avere in mano No Questa è una grande cosa Non riesco a tradare Copacchis 3 danni sono Gioco lui O lei insomma Oh mi dà qualcosa De forte eh 8 mana Cioè 8 mana Comunque 10 mana Carino Bello lui Certo se mi davano a bestia Esultavo Tantissimo Ora Il discorso è quello O inizia O inizia a essere aggressivo Lui E mi costringe a me A fare il trade Penso andrà così La situazione Però devi stare attento Perché io in due turni Gli setto l'ital Quindi Da come gioca lui Dobbiamo regolarci Dei costi Non vinci mai Non vinci mai così Non vinci mai Caro così 4-5 Faccia Bomber E' perso Miseramente Va bene Va bene Va bene Va bene Mi inizia a girare qualcosa Carini Capadosco Ho bruciato tutto Naia la buttana Tatillo Caro Lei deve stare più tempo con me Ciao caro Giochere mai il weapon rogue Allora caro Io ti penso Io dico Sono abbastanza sicuro di questo Che il weapon rogue Quello di Colento E' un deck difficilissimo da giocare Ma veramente difficile Quindi io penso che Se non faccio legend Prima possibile Penso che posso perdermi Saremente rank Perché Sono il primo a dire Che non so giocarlo Un deck difficilissimo Veramente difficilissimo Molto 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 difficile Amon Blue Phoenix Bisax Armandone Grazie cari per il sub Sono una grandissima fellegna Bambere mi dice Grazie caro per i 2 euro Non avevo fatto il log In Ecco perché mi chiamava Anonymous Caro vabbè Non doveva donare Bastava che me lo scrive a chat Grazie mille caro Veramente Cube Warlock Si può fare Ora finché c'è una buona Wee stick con questo Uso questo Poi magari si cambia Abisu Anzonan Anzokanka E Big Pask Grazie cari per il sub Ci vediamo tutti Sul canale telegram Mister Armstrong Caro non si inalberi Dios E' un aggiornamento Apple Si Ai Dios caro si chiama Vai vai vado a vedere Le foto che ci stanno Tor 8998 Grazie caro per il sub Grazie a Paco Grazie a Dieba E grazie a Walker Grazie carissimi per il supporto La Rin nel Cube Lock Va bene per counterare i priest Non va bene caro La Rin Per counterare i priest O meglio Va anche bene Ma devi trovarlo a turno 6 Io ho vinto Una partita Con la Rin Contro priest L'ho trovata Al turno 6 E aspetta Non è che devi Al turno 6 Devi anche evitare Che lui giochi Silence o Mass Dispell Altrimenti te la silenzia E ce la prendi in culo Ecco Contro Paladino Il matchup è difficilissimo Quindi qua A meno che non prendo Chiaramente lo spezzatenebre Il matchup è difficilissimo Contro Paladino E anche lo spezzatenebre Se lui è il paladino Che ha tutti quegli Scudi divini E' molto molto difficile Vincere questa partita Molto difficile Deve veramente Top beccare O aver fatto Un malligan brutto Come il mio Tipo C'ho il bucaniere Certo Ovviamente Prenderò Pages Però vabbè Non mi sembra Aveva fatto un malligan brutto Perché parte chiaramente Col drop forte Ottimo Perfetto Ok ci siamo Hai giocato Sonia La giocherai Sì caro T'ho letto Lo vedi L'ho giocata L'ho giocata Ieri l'ho giocata Mi sono trovato anche Particolarmente bene Con la Sonia Bouganiere Il 2-2 che ci fascio Me lo ficco in culo Come l'altra cosa 3-4 E' difficilissimo ragazzi Non avendo chiaramente Aoe A parte lo spezzatenebre E' difficile Veramente Contro Paladino Soprattutto poi Semidrange Va bene Ci sta Non proprio i top deck Che volevo Alchimista Incubo orrore Non proprio i top deck Che volevo Proprio no Bene Allora Spezzatenebre O con seed No Spezzatenebre Peraltro no Perché non Non va Nel senso che Non avendo drag in mano Capite bene Che non va Trade Trado lui Trado il 6-2 Qua sono costretto a curarmi Avendo il value trade 3-6-7 Certo sarebbe L'Ital Con il gigantosco Con il volcano Come cazzo Si chiama Col 5-4 E' l'Ital Ma io penso Che anche se Curo il drago Lui non farà mai Trade sul drago Mai nella storia Fa trade sul drago Lui Mai E' impossibile Non ha senso Occhio a razza Penso sia difficile Caro che lui possa Per razza Però insomma Ormai Io credo In tutto Io mi chiedo Sempre come Le vengono delle felene Così grandi In mente E' veramente Un grande Grazie orso Grazie orso bruno Peraltro ieri Orso bruno Stavo ben di una stronzata Ok Fortissimo Divertente Da constatare Come adesso Non serve a niente Nemmeno lo spezzatenebre Vabbè Niente orso bruno Stavo di una cosa Mi sono scordato Ma le moto del buratello Quando arriva Caro è la prossima E' assolutamente La prossima Le moto del buratello Comunque Io continuo col deck Ripeto Il pala è un matchup Terribilmente Difficile Terribilmente difficile Quindi Andiamo avanti così Caro Trixerone Lo vedo un po' Sulla schienaccia del buratello Stasera Si 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 caro Ma ho passato momenti peggiori Stasera Quindi adesso Siamo un po' Un discesa Certo A ritornarne lo bruno Non ci vuole niente Però è chiaro Ho visto ora Il canale youtube Ecco scoperto Come fa A far cosa Caro Questo ragazzo Ti chiedeva Come mai Avevi 2000 viewers Che non ti aveva mai visto Si caro Ti sei risposto da sole Esatto Il canale youtube E' per quello Cioè ho iniziato Da youtube E io non da twitch Quindi Ok no Comunque Ti chiedono consigli Su chi scegliere Come campione Per le world Championship Caro ve lo scrivo su facebook Perché sto ancora decidendo O io me lo tengo il bucaniero O prendo Trovo un altro drago Bucaniere Coin bucaniere Bucaniere di follow up Certo Potrei pescare Keliset Potrei pescare La chierica Potrei pescare un po' di cose Potrei ripescare Pacis Questo è chiaro Vabbè Drago manco l'ombra Quello che mi interessava A me Una chierica Drago chierica Niente Grande archivista Sapete che mi sa Che due di questi Sono troppi Sapete che mi sa Due di questi Sono troppi E ammettite Lo dicevano spesso Che era meglio Che mettevi due Per la 8 Coin bucaniere Turno 3 Andiamo di accolito Bisogno fondamentalmente Di mettere un po' di board in campo Certo Lui fa il value trade Sul 2-2 Però mi interessa Il giusto Oppure si può Baffare la bestia In qualche modo Io ho 5 danni Che li possiamo fare addosso Oppure un bait E c'ha l'altro granchio in mano Intanto abbiamo lo spezzatene Che trova il Ci può stare caro Però il fatto che abbia Giocato granchio Mi motiva proprio A farla questa giocata qua Bisogna di tradare Bisogna giocare un minimo Attorno all'oundmaster Niente Di turno 4 Che giocherà molto probabilmente Lo stesso A me vi tocca giocare L'accolito Il crepuscolo in tempo play Assolutamente A meno che non mi esce Qualcos'altro di meglio Grazie caro Gentilissimo Oh rimanga chiaro Rimanga chiaro Che l'oundmaster È ancora molto forte T'ho beccato No Oh va bene Se mi do un drago Ancora meglio Adesso è il momento giusto Per darmi un drago Per regalare Alla mia persona Un drago Matti c'è un ragazzo Che ti saluta Dalla Nuova Zelanda Grazie caro Grazie un saluto a lei Come si leva la chat Su Twitch Come si leva Caro devi premere Su full screen E non vede più nessuno Non vede più nessuno Un saluto da Nuova Zelanda Ciao grazie Alessio Adesso lo leggo Mi hai Mi ha visto in live Per caso Ah no Dicevo Oh mi dai il drago Mi dai un drago Un drago Te chiedo Non è che ti chiedo La madonna Oh signor Un drago Grazie Cazzo C'erano venti I draghi Oh Buon dio Certo il corridor creeper Sarebbe stato interessante Però non voglio troppo Oh signor Va bene Va molto bene Allora se lui swinga Probabilmente la vinciamo noi Sono 18 danni Non in Ok Oh abbiamo vinto Caro Ok che ignoranza Quel peces Oh buon dio Che ignoranza Quel peces Caro Allora Trade Trade Sono 15 danni Fatto per cui cari Mi posso tranquillamente Curare Giusto no? Come vince Scusami Anche volendo Come vince Sono 3 4 5 Come vinci Ma ritirati Ma ritirati Ritirati Mucca mortale Cara Caro Mucca Grazie per il sub Grazie a Davidera E grazie a MegaX3 Buonasera A lei caro Grazie per i 2 euro Dai che dopo questo messaggio Le vincerai tutte Mattia Scusa il disturbo Però da quel Che ho visto Quel control warlock Con dei dark Mi ha fatto Accorato eccitare La lista Sì Sì Te la mando subito caro E grazie a Gesù Cristo Grazie caro Sempre sia con noi Grazie per il sub Ah orso bruno Dicevo E che ne la faccio Mi sto guardando cari Una serie Che peraltro vi consiglio Spassionatamente Che si chiama Dark Mirror Mi pare Black Mirror Sbaglio sempre Oh sbaglio sempre Black Mirror In cui c'era la puntata Che però non era l'orso bruno Era l'orso bianco Quindi stavo perdendo Una strozzata Capito Provelo L'orso bianco La puntata di ieri Tu dormivi Tu dormivi Tu dormivi Quale puntata Carissimo Buonasera Vedi un futuro Per il quest mage Nicchia contro la zagusa È una validissima alternativa Caro Validissima Il fatto è che me Mi scendono i coglioni A giocare il quest mage Tatillo Mi passa la lista in chat De Il control warrior Sì Sì E ce l'hai su discord Te l'ho mandato nella stanza Caro ma lei è poco operativo No la copia e le incolli nella chat La chat A me non è piaciuta La serie caro Allora metti un po' d'ansia No Sbagliato Caro ma perché me la manda a me Lei è impazzito Eeeh Dai da Michele Dai caro Anche a livello Per la legge dei grandi numeri No Io prendi che tenne finito Chiello No Vabbè comunque la chierica Non è male Manco l'orrore dei cunicoli È male Lo sto chiamando in 10.000 Amori diversi Questo povero Cristo Si sarà incazzato come una bestia Poi lo nerferanno pure Eeeh Bombe Bombe pro Grazie caro per il sub Amico mio Grazie mille Non c'è verso Caro Non azzecco Non mi Non c'è verso proprio Non c'è verso nemmeno Che to becco un caleset Vabbè Abbiamo una mano pesantissima Pesantissima A meno che non fairo power Mi danno Va bene Eeeh Dite voi Magari mi dovete Nel drop a 3 nel malli Ganna Sapete qual è il problema Che questo deck che sto usando io È di stampo aggressivo Nirli E quindi abbiamo E quindi abbiamo Sempre Che io Io tolgo sghigno O tolgo sghigno O lo faccio dorato Ditemi voi che devo fare Io Finita sta partita O tolgo sghigno O lo faccio dorato Perché non è possibile Qua chiaramente non posso giocare il 4-5 Cavaliutri con il 5-5 Mi tocca giocare assolutamente l'orrore Tatillo O tolgo sghigno O lo faccio dorato Perché non è possibile Che mi è Oh perlomeno sei indorato E meno bastardo Secondo me lo dovresti Vilerba Top deck Vai Grande Voglia di coso Guarda lì Santissimo lui Guarda che pesa per il culo Mi dà Che le 7 buvaniere Van Cleef Turno dopo Giochiamo a Collido Van Cleef Mi piace Ma è possibile Dorato Ecco Dorato Va bene Dorato Fa niente che va in wild Caro Guarda lì Signor Guarda lì Guarda lì Che giocatore Che è lui Spettacolo Spettacolo Wow E io una mano lentissima Grazie al bomber Beh se c'è l'Iroi Se c'è l'Iroi Lo disincanto lo sghigno Se c'è l'Iroi Scusa amore Vediamo se mi gioca intorno al bomber Vediamo se mi gioca intorno al bomber Dovrebbe fare trade trade Non può giocare intorno al bomber Perfetto Al turno 7 Con 6 HP Inizia il nostro comeback Inizia il nostro comeback Dammi un altro bomber Mai nella storia Va bene Trade Poi devo capire Perché dice Che siete tutti cani Sto cazzo di Di banquist Ok Ripeto L'Iroi a parte E Una tra vilerba Quante vilerbe Mi hai giocato Questa partita Quante vilerbe Mi hai giocato Quante vilerbe Mi hai giocato Non è Buono Ok Oh spezza tenebre Racconto la mia Spezza tenebre Racconto la mia Certo perdiamo sempre Dall'Iroi Ma quello spezza tenebre È molto forte Non racconto la mia 1,2,3,4 Mi devo assolutamente curare In realtà potrei anche Non curarmi Ma è troppo rischioso Qualcosa 1 Backstab Cazzo il bomber È pure forte però Un signore Backstab Non mi serve a niente Tanto mi curo Bomber S7 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 Non mi serve a niente Finché non prendere i Roy Stavartita non la vince Lo spezza tenebre è ancora graditissimo Questo è abbastanza chiaro Che è sto trade Con l'Iroi non è l'Ital Lo sapete adesso Non è l'Ital Perché è uno off Perché è uno off A meno che chiaramente non gioca l'Iroi S7 L'Iroi pirata L'Iroi Vilerba Non può È un parto Sta partita Ho un altro Bomber Mi pare di sì Che grazioso Mi esce adesso lei Che grazioso Che grazioso Che grazioso Devo giocarlo a forza Non ho modo Altrimenti avrei dovuto Prendermi il 2-3 Per rischiare di vincere Insomma Il fatto è che Ha preso due Ah la madonna Mi fotte sempre Sta cosa Micchia se non prendi La spella 5 Hai perso Micchia se non prendi La spella 5 Hai perso Prendi la spella 5 E ti si scallo Di paci Smorto Micchia se non Tatillo Se non prendi la spella 5 Ho perso Perché la tocca A noi quell'altra Signori attenzione Beh io non l'ho presa Quindi non dovrebbe Vabbè anche questa è forte In realtà No Cos'è Cos'è Vish Cos'è Che fai Che fai Che fai Bleffi No Citto 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 Capito No more Ma che stai matto Sto scherzando Stupido Ecco Mero male Perfetto Galvanizzatissimo Da sta cosa Ho spaccato tutto Comunque Fantastico Giochi queste No caro Che Che Finito Comunque Mattia Ti spiegano Che Bancriff Dice Tuttani Perché I nobi L'uomini Hanno ostacolato I tagliapietre Da lui Capuggiati Caro non te sto Ascoltando Giustamente Ma come si fa a giocare Così Cioè voglio dire Non parlo di lei Parlo dell'oppo Allora Comunque Giochiamo contro prete Ora Io potrei anche pensare Di levare la chierica Perché qua la win condition È La Come si chiama La 4-4 Hai capito no L'evocatrice Della minchia L'evocatrice Della minchia Niente minchia L'aggette dragonio Però non mi fa schifo Il controllo mentale Sì Però il controllo mentale Vedo che mi esce Ho fatto vincere la partita Prima in realtà Evocatrice a spiore Mica che partita Abbiamo vinto prima Assurdo Pazzisco Eravamo spacciati Era partito con Orrore dei cosi Ciao caro Le porterai un rock Con Sonia su youtube Sì caro E questa è la mia intenzione E questa è la mia intenzione Avevi anche la spell a 5 Per contrastare Eh no Il problema sai qual è Che comunque rimanevo Con pochi HP Liroy sarebbe stato Little in top deck Sì No ma lui ha Comunque sì Avrei usato la spell a 5 Per contestarlo Però insomma ripeto Non era Poi positivo Ho fatto un misplay Della Madonna Sì Della Madonna Quasi peggio della razza Di prima Allora lui è un Razzagus Che gioca anche il Granchior Non me l'aspettavo Però mi piace Come tech card Non posso Cari giocare il gigante Dopo Il gigante Il drago E non posso manco Giocarlo A meno che non metta Un drop a 3 Ma anche in quel caso Non lo possiamo giocare Vediamo Vediamo che ha Intenzione di fare Steven Ah comunque ti chiedono La lista di questo priest Arriva cari Arriva Ma caro Pacis dorato Ha ragione Melmels Ha ragione Sai cos'è che ho vinto Mi sono clavanizzato E non mi sono scordato Mi sono scordato Lo farò al più presto Parola d'onore Ho dato la parola d'onore Che mi faccio Pacis dorato Comunque il codice Di questo deck Lo ho trovato anche su YouTube Sotto il video Del Big Tempo Sì Orso Bruno Aspetti un attimo Aspetti un attimo Ma lei È un tipo strano Che si mette la maschera Da cavallo Perché se così fosse L'ho vista L'ho vista Sì l'ho vista Sì lei l'ho vista Tra due giorni Vado a convivere Con la mia ragazza Qualche consiglio Caro no Non ci sono consigli Che le posso dare Bocca al lupo È tutto diverso Tutto diverso Famelo Sodreda A me va bene Che fai giochi Circo la feeling Ti aggiungo Non lo so Perfetto cari Questa è un'ottima cosa Che lui ha fatto Ok Ma me ne fotto Di Keleset Vero è molto più forte Il 5-5 adesso Oddio Keleset Non è male però Porca troia No 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 Fermi tutti Avrei chiaramente Trattato il 5-5 Keleset è troppo forte Contro breve Molto forte Peccato che non c'ho La cazzola D'evocatrice Per peccato L'unico consiglio È che non dire Ecco caro Se vai a convivere Ragazzi Vai di sigaretta Cazzo di elettronica Vai di madonna elettronica Vai di madonna elettronica Via Alle Sì L'evocatrice è uscita Però caro L'evocatrice è uscita L'avevano dominata Vero Allora Il fatto di aver paci Se non penso Mi cambi l'esistenza No Quindi noi tradiamo tutto Partiamo di errore Più agente Mi piace tantissimo Cioè Avere un 1-1 A me non mi cambia Assolutamente niente Ma qui guarda la chat Eh lo so caro Ora la guardo La guardo Ma immagino Immagino diciamo Immagino la situazione Velen Che ci faccio di Velen? Metto board Certo Dando in decay Muoio miseramente Però insomma Ecco Questa cari È la clip La chat che volevo io Perfetto È una godura È perfetta È bellissimo Voglio vedere poi Anduin di turno 8 Che succede Mi tocca fare un'altra emot Mi tocca fare Per Anduin di turno 8 Non lo so Deve stare attento Che la board È molto forte Per lui Il discorso è questo Se non me la contessa Conciuto World Death Io non posso Io non posso Giocare l'evocatrice astiosa Ci devo pensare Perché Fisis Scream Mi fa il culo Il Fisis Scream Mi distrugge Il coin l'ho giocato io Vero? Giusto da dirlo L'ho giocato per il bucaniero Il coin mi pare Se non mi sbaglio Sì Allora Win in play Di questa partita qua Qual è? Qual è? Evocatrice Non mi piace C'è poco da fare Non mi piace Cari l'evocatrice Se io gioco evocatrice E mi gioca Fisis Scream Abbiamo perso Questo è un ottimo Top deck Oddio potrei in realtà Anche giocare il drago Per controllare un po' La Dragon Fair Potion Però poi non c'ho draghi Se top deck Con l'agente dragonite Quante cazzo ne vuoi? Fammi capire Quante ne vuoi? La domanda è Voglio giocare intorno Allo spell D4 Di Kazakus La spell D4 Lo spell da 4 Di Kazakus Perché se voglio giocare attorno Faccio sta giocata qua Vado a 5 Gioco intorno Allo spell A4 Gioco intorno Allo spell A4 Tocatrice Insomma gioco intorno Intorno a che? Intorno Insomma Così intorno Winning play Dimenticarti che l'avversario Ha un Ha una board Non ho capito caro Non ho capito Andri turno 8 Winning play Ah si giusto Si si è chiaro 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 Caro domani La verifica di latino Fammi un augurio Ad aspera caro Ad aspera Latillo vuol dire augurio In latino ad aspera? Non lo so Non lo so Non lo so Carissimo appena vieni Siamo nel catanese E ti offro una quantità Ignota di birre Caro vengo Vengo da single Cioè non per Però insomma Sta più in intimità Allora caro Ti continuo a chiedere Che tabacco fu Cioè Malboro Malboro caro Ok Circo lo feeling E via Ok E la 3-1 Va contestata A meno che Si va contestata La 3-1 Sono 5 danni meno Sono tanti Che cazzo Eh mo il cazzo Che la contesto Che fassido mi Dalla 3-1 Questa è la domanda Dragonfire Potion Non risolve nulla 5 danni Sono tanti La spella 1 Mi fa 5 danni Fa 5 Ando in decay Ecco ando in decay Potrebbe Eh cazzo Ando in decay L'ho trovata Ando in decay Ok Perfetto L'importante è saperlo Io non ho latino domani Eh caro Sono contento Manco io Domani compito di fisica E questo caro è il mio campo Se c'è dubbi Mi dica pure Che le risolvo io Li risolvo io Evocatrice Mi ha dato un 4-8 Che è molto forte Controlando in decay Io la ringrazio Certo se era 4-4 Era meglio Eh Vabbè però Ok Questa è fastidiosa Mi tocca far doppio trade Mi tocca far doppio trade E non posso giocare niente Ma Già mai posso giocare lui 3-6-7-8 Mi tocca far doppio trade Questo figlio di puttana Se gioco il malascaglia E mi buffa lui Perdo dando in decay Quindi Partiamo con lui Ho anche un silence Va bene Gioco intorno a Spirit Lash Presumo di sì Stato da Ragon Fire Potion Il 4-4 non mi muore Gioco intorno a Spirit Lash Caro praticamente Uso un programma Che mi cambia il volto In qualunque cosa voglio E dato il nome del canale Ho scelto l'orso Bruno Caro allora è lei Lo vede? È lei Ah quindi Non ha una maschera di cavallo È È un È un urso Non è un cavallo Esattamente Ha voluto curare 4-4 Un 4-2 in campo Ma non era Ando in decay Ando in decay Ando in decay Veramente O ando in decay Oppure possono anche concedere In realtà Regà ma poi ripartite con Razzacus Se me le posso fare Che dite? Me le faccio? Dopo aver craftato Sghignodorato? Eh? Ciao Patris Mi benedica per l'esame Di analisi 2 In bocca al lupo caro Per l'esame era quello Fatto pure io Analisi 2 Quinto in global Su HS Mica cazzi Assolutamente no caro Assolutamente no Ma te ti chiedono I tre principi Della dinamica Quali sono? Ecco Della dinamica Della dinamica E caro Chi può dirlo Senti Malascaglia Accolito Su Malascaglia Soffre la Dragonfire Ovunque I tre principi Della dinamica Allora Su google No no che c'è Su google Lascia le mani Uppare Il primo è che No amore Non posso trovare Che la sommatoria di forze Su un corpo E' uguale a 0 Quindi il corpo Persevera Nel suo stato di moto Uniforme Il secondo Il secondo Il secondo è quello di Newton E il terzo è quello di azione-reazione Il primo regà Non so se lo ricordo Sì sì Non l'hai detto bene il primo Il principio di inerzia E poi Newton E poi azione-reazione Sì Sto cercando di capire Di ragionare Se veramente vale la pena Continua sta partita Oppure no Perché Non trovo veramente Troppe soluzioni per vincerla Ha avuto Risposte molto molto buone Io purtroppo L'evocatrice astiosa È stata pure Abbastanza buona Kazakus Mi ha praticamente Tagliato le gambe Must dispel Va bene Insomma Va bene Accettabile Vabbè Top deck di patch In mio principio No che almeno Ho giocato Non c'è più il rischio Il primo è di nerzi Esatto Sì No volevo Isplicarlo Ok A sto punto Va fanculando Indykey Si pusha Non trovo Veramente altre soluzioni Non trovo Veramente altre soluzioni Sennò quella Che pushare Se buffo lui Siamo sotto La shadow Wardet Quindi non va bene Se buffo lui Siamo sotto Indykey Quindi non va bene Ma penso che Posso Trattare Come se Novi danni Fossero pochi Posso trattare Se trattando Quando la vinco Stavartita Mai Chiaramente Non posso cura Sennò lo stronzo Bescanagata Costante Lassia di una molla K delta x Perfetto Ciao Quando vieni Qua a firenze Ma caro Si a firenze Verrò Anche perchè Mi hai detto L'angolo Mi dai Il numero Dello spacciatore Dei crack No caro Non diciamo In giro ste cose Terzo Per la legge Di avugado Non esiste Cazzo quadro Ok Perfetto caro Ci sta Ora ti chiedono I principi Della termodinamica Quanti Quanti ne sono I principi Della termodinamica Dovrebbe essere Sempre tre Se mi sbaglio Considerando Il principio zero Sì Ora Stiamo a studiare C'è l'esame di fisica Il ragazzo Lo stiamo aiutando No Di cosa parla La robotica Che stai facendo Sia specifico Mi faccia Ma si faccia Intendere Da noi playbay Caro ma me lo chiede Perchè è interessato Caro sto usando la versione Del cubelock Con tanta dei giganti Lei pensa che sia meglio Usare il silence O umbra Mi piace molto il silence L'umbra caro I silence In realtà non sono fondamentali Silence Per il cubo Perchè tanto Il silence Nel metodo attuale E' forte molto Per il warlock Ma se tu giochi warlock Tu stesso Non hai bisogno Di silence Invece umbra E' molto 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 forte La puoi giocare Di turno 4 Contro aggro In qualche modo Fa da tank Se vuoi O comunque Se non te la contesta Giochi la che E c'hai Un 3-9 E 3-1 3-3 con taunt Il che E' tanta roba Comunque Matti Se tu hai una prossima Su IRL Con il professore Atrix La famo La famo Fammi mince Sta partita Ma anche Li sbrocchi Oh metto La chirica Come bait Per l'arma Metto la chirica Come bait Per l'arma Poi parto Col bucaniere E traddo Un eventuale 4-2 Lui gioca Famiglia animale Esce il 4-2 Perchè Esce sempre il 4-2 Andiamo Di bucaniere E tradiamo A meno che non Top Ecco Pacis A me come bait La chirica Mi piace Contro agro Non lo siamo Mai Per pescare Mai Mai È difficilissimo Contro Contro ante Ecco il 4-2 Quante ne so ragazzi A meno che non fa il value trade Che ci sta pure Però va bene lo stesso Sapete che mi piace pure Il drago Sta sotto il kick command Il drago E però Non è male Però Voglio veramente rischiare Che lui se lo baffi Con un master No Gioco lui L'orrore dei cunicoli Lo posserò Lo posserò Lo gioco al turno dopo Con il drago Non è vero Non è vero Però Lo posso giocare volendo Peccato se non mi piaceva L'utente con la chieri Che me lo trattava con l'arma Era una grande Monster Va bene Questo un po' meno Però va bene Insomma accetto Bello che cresce Piense sempre al turno 5 Quando non serve Quasi a un cazzo Quasi Soprattutto contro ante Non serve a niente E mo mi dia Il top deck Del 2-4 Niente Vabbè Così tanto a dare Grazie a chi vista Ci prendiamo l'8-8 Non che sia particolarmente forte O a meno che Ok Fa questo trade Non fa trade Fa trade Fa trade Va bene Va bene Va bene Va bene Insomma c'è un 8-8 in campo Per quanto possa andare bene Mi devi dare un altro minion O lo spezza tenebre Ancora meglio Ancora meglio Fuori del vento Fuori del vento Quotata 1-01 Lo scuodivino Cazzo Ok Ok Regà spezza tenebre Adesso Spezza tenebre Niente Niente Dio santo Quanto è pesante Sta roba Ha vinto Ha vinto 8-9-10 3-6-7 8-9-10 12 danni Ce l'ha vinto A meno che A meno che Prendo Prendo la Hydra E mi fa 9 danni Con i 3-1-1 Eh archivista in tui man control Sì caro Però mi fa Mi fa 9 danni Con i 3-1-1 Se prendo l'Hydra Non si fa niente no? Immagino Se fa un cazzo Ma ti prova il Eh caro Bomber su orrore È l'Ital È l'Ital Cioè Non vinco mai È l'Ital Che provo Che vuoi Dimmi Mi passi la lista Che lo proviamo Su control warrior Atris Che ne dici Di mettere Rison Jones In qualsiasi deck Preferisco la mail Ma caro Rison Jones È un po' Pesante Ce l'hai su Discord Se l'ho mandata Nella chat di Discord Se l'ho mandata Manda Ah ricorda di Comunque Ragazzi anche stasera Io penso che Io penso anche stasera Che c'è una particolarmente Sfiga Ora Ma perché devo fare sta roba? Perché non devo farla? No perché devo farla? L'avevi detto L'avevo detto L'avevo detto? Ma avevo dato una parola d'onore? Oh mi dai la lista caro intanto? Sì Ah Jade No fermati Gioco Senti ma avete rotto il cazzo Vaffanculo Patches di merda No No Perché? Perché senso ha Ma che senso ha Mattia a fare una cosa del genere? Sono per ludo Io mo vorrei fare però Un deck in cui c'è Patches In teoria Non è vero Faccio Jade Ha fatto una cosa Senza senso Totalmente Ma guardalo che bello Bello Sì sì Questo qui Questo deck Manco lo guardate Questo deck Manco Questo deck Manco lo guardate Questo caro è il Jade Questo è il Jade Mattia prima di startare Sì sì Abbia il deck trigger Ora lo avvio Sapete cari Stavo pensando a una cosa Interessante No vero? No? O sì? Eh io vedo In ritardo Mattia Sapete qual è il discorso? Che contro Razzagus Con il Jade Non siamo proprio tanto Tanto sotto Perché grazie al Malfur E un sacco di altre Di altri Di altre armor Lo possiamo veramente fare bene Soprattutto cosa tolgo per lui? Dovrei togliere un tiranno arcano No non mi piace Non mi piace Boh Non è che ogni cosa va bene Per il Dark Horse Non Non mi piace Dove sta? Dove sei? Eccolo qua Non mi piace Me l'ha data la lista Tattillo Quella di Mediador Sì ce l'hai Dove? Su Discord Ma che difficoltà Aspetta Me la manda in chat Che poi lo proviamo La manda in chat Il Jade Ha un matchup positivo Contro Razzagus Dipende caro Non è detto Cioè nel senso Non è proprio negativo Però insomma dipende Dipende sempre da come Pesca lui C'è quel cazzo di Fisic Anduin di turno 8 È terribile Certo se non mi gioca Razzagus Va bene Perché abbiamo tanti heal noi Tanto modo di farci Armor Il problema è che Bisogna trovare Malfurion prima di subito Contro Razzagus Lui non deve Dover razza Ok lo vedete A posto Perfetto Lo vedete Allora lo vedete Stiamo a posto No che poi Le spell a 4 Che danno 6 armor È proprio il minion da 4 È ragione caro Sì è ragione È ragione È ragione Il saggio osservazione Però vabbè Ho altri 3 minion da 4 Nel senso che sì Il rischio è alto Bella la nourish L'idolo di Giada Mi gioca a Chierica Che faccio? Non lo posso giocare Ma solo io trovo Razzagus Una merda Una merda Caro che intende? Una merda Una merda Perché il deck Ormai è odiato da tutti Oppure Dove trovi una merda Perché non è forte? Cioè o meglio Senza la razza Non vinci Perché in quel caso È vero Che senza la razza Non si vince Non c'ha la Chierica Però è anche vero Che è molto forte Come il deck Cazzo il Razzagus È molto forte Così come è forte Il big Il big priest Così come è forte Il fatto che abbiamo Un sacco di rampi in mano Coin bars Potrei accusarlo Dai Paolo Bravo È giocata giusta Intorno a swipe Ok swipe Nourish Più due E poi andiamo di Questo Vabbè Due Giochiamo lui 6 7 8 9 10 Va bene La nourish qua ci salva un pochino Kazagus Lo stronzo delle torte Va bene E poi lo sai Mattia Lo stronzo delle torte Insieme al pipistrello 2-1 Dell'hunter Sono stati fatti Per I vincitori dei mondiali Che uno dei due È Firebat Per questo è un pipistrello Quello là Caro che cazzo hai detto Amico ho capito Non ho capito Che ha detto Allora La carta del Lo stronzo delle torte Quello che chiami tu No se chiama così Mi che lo chiamo io Legga 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 Dica Dica Che stai dicendo Tattillo Che cazzo ridi Caro Lei è un pazzo E anche il pipistrello 2-1 Dell'hunter Sono stati creati Per I vincitori dei mondiali Ah ok 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 Che uno dei due Tra l'altro È Firebat È Firebat Sì 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 Lo conosco Non vorrei giocare i sentieri Prima perché c'è una buona giocata Di Bemut Certo potrei giocare I sentieri E Fandall Ma Fandall Non mi serve assolutamente A niente E vorrei giocare un minimo Intorno alla Dragon Fair Potion E quindi niente Va bene Comunque Ti Sì Ti scrive Orso Bruno Che grazie alla sua citazione Del suo canale Sono arrivati Dei nuovi orsi Grazie Tattilo Magari 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 Allora il problema è questo Che i sentieri Soprattutto contro Razzacus Stanno giocando un sacco di roba Nel frattempo Sta a fare un casino Non sei capito Sentieri i divergenti Finché non ho capito Un po' Com'è la situazione Mi servono per fare Hill contro Razzacus Capisci? Perché pescare Non se ne parla Che abbiamo l'infestazione Quindi probabilmente Vado di hill adesso Vado di hill Fandral è molto forte Cazzo Grazie Comunque no Non si guarda Guardi 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 Sarebbe stato molto divertente La cosa Però purtroppo caro Non è così Questo è un turno Molto forte Soprattutto Perché abbiamo L'infestazione Lui pensava No c'è una carta sola Ma come può essere Infestazione E invece caro sì Non ha giocato Razzacus E turno 5 Ok Va bene Va bene caro Allora Ora ho veramente Bisogno assoluto Di prendere Di trovare Non prendere Di trovare Pensate ciò che Il gas che è brutto Di trovare Il mio Malfurion decay Bisogno assoluto Va bene lui Va bene lei Va bene Anche il 4-4 Niente Va bene Mica poi A me il deck tracker Contro il compiege druid Mi serve tantissimo Che mi scordo sempre Sì però Non si vede Il deck tracker Ce l'ha veramente Serio Spettacolo Wow Wow Ce l'ha veramente Non ci potevo credere Ce l'ha veramente Che cazzo È una congiura Una sera È una congiura Però non l'ha usato Al turno 6 Guarda qua che mi esce Wow è una congiura Spettacolo Deve lo spam Della Devo aggredire tantissimo Malfurion va bene Allora cari Vogliamo giocare Allora Diciamo che Physics Scream Non è assolutamente Un problema Dragonfire Potion Potrebbe essere un problema Io gioco con lui Mi fa Dragonfire Potion Noi comunque ripartiamo Con Malfurion DK Che è molto forte Molto forte Sì Dragonfire Potion Lo accetto L'accetto tantissimo Abbiamo ancora Swipe Nel deck 4 danni Malfurion DK Ha giocato il Gaze Ma potrebbe tranquillamente Perder la partita Ripeto Fisi Scream Non è un problema Oh se non ce l'è meglio Sia abbastanza chiaro Anduin DK Ok Tra di qua Io ti pusho 4 danni Sono 7 con Malfurion Non hai la razza Sono contento Caro questa situazione Bocciolo non penso sia No no Faccia 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 Tutta la vita C'ho 35 di amor Sembra un caspita Di warrior Lui ha giocato Gari mi pare Ha giocato tutti i suoi heal Quindi Se a meno che il deck Non è particolarmente assurdo E gioca anche la grid Deli potion Lui non ha più heal E quindi ha perso Ha perso Non te l'hai chiamato No Ha perso Non può avere anche la grid Deli potion L'ha detto Ci prendiamo sto swipe E la chiudiamo Dai Non proprio Non proprio Va bene Fisi scream Chiaramente È ininfluente Perché perde un turno Noi stiamo lì Dari in due turni Va bene cari Chiaramente Il matchup È sfanculato Cioè nel senso Non potete fare Un confronto Che è armor quella lì È armor quella lì Mi faccio capire Non potete fare un confronto Con questa partita Poiché non ha giocato Razza al turno 5 Ah proprio di ignoranza Eeeh signor Voi a me na caro Non potete fare un confronto Perché non ha Ma perché si diverte Così caro Tico E quindi Ah mi sta a far vedere Tutte le carte che c'ha Ecco Quindi quando Quando il ragazzo di prima Mi scrive che Trova il Razagus poco forte È perché probabilmente O Giocando non trova Razza Perché Ha avuto il Ghast Il Ghast Contro il mio deck Al turno 8 Mi counter a bestia Senza Razza Avete visto che Eeeh Con il Con il Path Era lethal Eeeh Ti dicono che Se usavi la carta Per pescare due volte Ah ah E Avrei più probabilità Di prendere Swipe E trovare lethal Eh ma non è Non è miss lethal È una supposizione Cioè nel senso Voglio dire Eeeh Ah no aspetta No no scusa Mi dicono Mi dicono Per dare anche Più due Più due Ma quella non è la spelle Che mi fa entrare Un costo Quattro in campo No no Ma porca troia Ragazzi mi sembra Ti giuro mi sembrano uguali A me quelle due spelle lì Anche prima l'ho detto No quando c'avevo Fandral Avevo detto Gioco quelle Fandral Ma sempre col pensiero Che quella è la carta Che vi giuro Vi giuro Io pensavo che è quella Che mi fa entrare Un troppo a quattro in campo Convinto Convinto Ah no cazzo Alla fanart uguale Ah una identica Sì no 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 Giusto giusto Non ce ne vuoi cari Ma ti ripeto Sono uguali come carte Ma dico io Falla una rossa e una verde Sono uguali Identiche Cambia nulla Ti dicono anche di leggere le donazioni Sì 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 cari Giusto 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 Giustissimo Uno due tre quattro Sarebbe stata una swipe E che ripeto Ero convinto Fosse lo spell Che mi butta Un minone a quattro Nel Caro lei è un viscido Lei è un pazzo Peccato che non posso Giocare in alcun modo Cioè nel senso Silenziarlo Non ha alcun tipo di senso Però Va bene E così Tra giocare lo power Cari questo è Non possiamo perdere Oddio no In realtà anche lui è il ghast Anche lui è il ghast Anche lui è il ghast Sì Codice di questo jade Caro glielo passa a tatillo Glielo passa a tatillo Eh ma se me lo passi Io magari Il canale telegram Il canale telegram Non c'è nabbo in chat Caro il mod Chieda al mod del canale Cosa che ha fatto Ah ok ha tradato Chieda al mod del canale Oppure 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 Raga sapete che devo pescare io Devo assolutamente pescare Per forza devo pescare Non c'è verso di uscire Da sta situazione Non so male Ero due Ma devo pescare A meno che non Top de cavo adesso Altimente infestation Oh lo vedete Dove sta l'altra Dove sta là Sono identiche Io vi assicuro Che sono identiche Stavamo il 2-3 eh Non penso abbia troppo senso Abbiamo Sono idee Ora Quando ve le metto a confronto Voi capirete Vedrete che sono identiche Probabilmente non lo vedo solamente io Ciao caro Finalmente ti becco su Twitch Spina di pesce caro A lei Gioco in quest palle Da disaviz L'ho visto caro L'ho visto L'ho visto Che bello è Malfurion Che bello è Malfurion La mia paura fottuta E malatissima E malvagia E che lui veramente Possava il ghast E vi assicuro Che il control mage Ha per forza il ghast Altrimenti contro Jade Non vince mai Questo è un big spell mage Va bene pure Oh caro che sfiga Oh Mi dispiace Insomma non tradi Non tradi praticamente nulla Ehm Vabbè Non penso sia count spell Beh non è male come board Peccato che non c'è l'ombra di Jade Nel frattempo Non c'è l'ombra di Jade Eccolo Amore mio Salve caro Eh vabbè Era ovvio Era chiaramente ovvio Che peraltro Mi ha tolto pure la La cosa per contestarlo Vabbè E io qua ti vado in faccia Come un assassino Adesso Bella Due partite di fila Contro Giochi Jade Druid Fai due partite di fila Con Gaze Che ti countera Fantastico Poi magari le vinciamo Tutte e due Questo è chiaro No? Però Per farvi notare Anche la situazione Come sta andando Quando conviene Quando conviene 1-2 Allora caro Ci sono vari casi In cui conviene L'1-2 Ti faccio qualche esempio Contro Contro aggro Non è di quanto sia forte Metterli 1-2 Con veleno Certo Dipende dalla situazione Questa potrebbe essere infamante Non è vero Tipo Ci sono nuovi danni Che sono tantissimi Caro L'è andata veramente Di sfiga Comunque L'è andata veramente Di sfiga Il tipo Minchia Povera È andata veramente male O l'ho capito Quando ti dice Tutta sfiga Allora se io gioco Lo spezzamagie Posso counterare Un iceblock La domanda è Quando è che mi serve Lo spezzamagie In questo matchup Per esempio Se mi gioca blizzard Ma se mi gioca blizzard Io non ho bisogno Di riprendermi Il 3-3 È giocavo un po' Intorno all'iceblock Perché sono 13 danni Certo Iceblock Valletto Va bene lo stesso Perché siamo un off Mica è forte questa Caro mi dia qualcosa Questa non è qualcosa Prova Aspettiamo la spedding plug Di sfiga spedding plug L'ultimate infestation O la nourish Anche se Allestrasa Non è che mi faccia Proprio tanto piacere Allestrasa O Gaina di che Va bene Vai vai No No veramente Mi era data spedding plug A me non la volevo Sul serio Cazzo non la volevo Sul serio Spedding plug Non l'ho detto a caso Ho sbagliato il nome Svi Ma giocare Sia iceblock E sbari nel big Eh lo so caro Lo so Però È teccato contro aggro Capito Vabbè ha avuto sfiga C'è avuto sfiga La partita l'ha vinta La partita l'ha vinta L'ha vinta Oh Aspetta Se prendo Se prendo Altri attifestation La ribaldiamo Altrimenti è molto dura Perché adesso Si fa una valanga Di il collo elementale È andata pure male Niente Mica Turno 10 Ho rampato solamente Di 3 di jade Cos'è che è andato male In questa cosa Che peraltro Come si chiama La strozza lì La Mi ricordo il nome caro Aiutami tatillo L'aia Aia Mi serve veramente a poco Mi serve veramente a poco Perché tanto ho polimor Non vinco più Mannaggia A me Non la vinco più Troppo ill Troppo ill Non basta Ecco l'ultima Tifestation Ora Bam Ma te va Hai vinto Ora posso riposare Che ore sono È una certa Gioca il big spell Caro l'ho giocato il big spell L'ho giocato L'ho giocato No aspetti Matti devi giocare Il control warrior Che da Che da un'ora Che lo aspetta Ma sai cos'è caro Io veramente Lo voglio giocare È che mi scordo Mi scordo Ti giuro Tu me lo devi ricordare però caro Che c'è sta faccola Scusa Abbia bene Abbia bene Che c'è sta faccola Allora Matti Mi rica Lo devi giocare da un'ora Ed è un'ora Ragione ma è un'ora Che mi scordo È un'ora che mi scordo Se soffri di alzheimer Non è Caro lei ha alzato la voce Ho alzato la voce È palese È palese Mi tratti sempre male Ha fatto bene Ha fatto bene Ha fatto bene Ha fatto bene No no vi giuro Che dopo questa Gioco warrior Mi sono veramente scordato Miriana non è contenta Di questa cosa Allora Nourish Malfurion Va bene Ci sta Molto forte Nel mente Non dovrebbe giocare però Vabbè il turno 4 silenziamo La madonna Ah ok ho capito Sì perfetto Perfetto È il deck di asmo Questo qui È il deck di asmo Belli top deck Questo è il deck di asmo Quindi quello con inner fire Molto probabilmente Ma sono certo che sia così Sì 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 Questo te lo silenzio istantaneo Quindi stamattina cari Come la vinci Eh la vinci La vinci con Ecco tipo no Ecco Ecco caro Tipo adesso Tu mi hai chiesto no Adesso Ha senso giocare Il veleno Ciao adesso non ha senso giocare Perché non li posso giocare Quindi che cazzo sto dicendo Ho detto una stronzata Non ha senso giocarli Doppia swipe il turno dopo Vanno dietro di Giada Pesca una carta Tanto la pesca lo stesso no Perché tradda lui No non è vero Non la pesca A meno che non fa Questo trade Con l'1-5 Con l'4-3 Doppia swipe il turno dopo Dovremmo pulire Ora non fare casini Ok Ah Tom Signori è arrivata l'ultimate Così all'improvviso All'improvviso 6 Traddo Malfurion Veleno Malfurion Non ha pezzo Alcun tipo di senso Io chiaramente Nel Mulligan Avevo tenuto Malfurion Perché Convinto di giocare Con Razzagus E invece Non è Non è Razzagus E chiaramente Il Big Spell Quello Big Spell Sì Il Big Spell Allora Doppia swipe Qua pulisco probabilmente A meno che Non voglio addirittura Mettere Ecco vedete cari Vedi che è uguale La fan art è uguale È identica A quella di prima A quell'altra È identica Stessa spelunca Insomma È identica caro Non mi contraddica È identica È palese Ti immagini C'è un ciclo feeling Stranissimo No Doppia swipe Penso Oppure posso fare Fandral sentieri Mi tengo Fandral Per il Malfurion dopo Cazzo Allora se io faccio Doppia swipe Traddo lui Traddo lui Traddo un po' di roba In realtà Però non penso sia Proprio una giocata Così forte Oppure gioco Il veleno Cazzo Vai Di Malfurion Metto due veleno Traddo lui E passo Non mi sembra male Anche perché lui In teoria Oh no Ho detto una strozzata In realtà Anche gli spezza Tenebre Ma gli conviene Giocare gli spezza Tenebre Con una board Del genere Non penso C'è giocando gli spezza Tenebre si fa più male Che bene Probabilmente Mi piace 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 Dusk Breaker Eh Sì caro Ma Dusk Breaker Come lo giochi qua? Curi Boh Non lo so Eh ma puli Pulisco tutto Con doppia swipe No? Chiaro Quattro Quattro otto Pulisco tutto E gioco intorno al bomber Ok Ok va bene In realtà va bene Mi serve l'ultimate infestation Molto probabilmente Però va bene Certo La cosa d'ambra È abbastanza È stronza Però va bene Ok Se non prendi 5-6 Va meglio 5-5 Cazzo Rimarrebbe un mana off E rimarrebbe un mana off I miei pensieri Sono infetti Non ha Non ha la pain Non ha modo Di traddare il 3-6 Se non che con la 4-3 Il 5-5 Deve fare doppio trade Penso no E non Chiaramente dipende Da quello che ha preso Ha preso un'isera grossa Come la casa Ok Spedding plug Me la dia O meglio Ancora Ultimate infestation Spedding plug Vabbè 11-8 Unici d'anni Sono veramente assai Da prendermi in faccia Così e non è l'ital con controllo mentale pazienza che ci vuole cazzo ma ti ricordati il si si mi ricordo caro mi ricordo quanta roba hai giocato quanta roba hai giocato trade 8 9 10 13 14 siamo ancora a corsa ci sarebbe da giocare il vecchio bombig druid l'ho provato non va non va cari ciao tobia ciao carissimo cercate daniel pispisa su facebook e mandateli l'amicizia va bene caro va bene mi dispiace se la guardo in 160p veramente mi dispiace tantissimo ma tanto proprio raga c'è poco da fa con te che di questo tipo qua veramente mi dai caro questo cazzo di cosa me lo sono ricordato nel mente ringrazio nel mente ringrazio lei mandamelo me lo mandi ce l'hai su discord sulla chat di hs ce l'hai pure dietro le spalle caro non faccia questo casmo non faccia che cosa ride è un'altra cosa mi devi dare il codice visto visto druid che la domanda in chat si nel mentre debomperpro ciao grazie caro per il sub amico mio grazie a mazzurri93 a spartaco hs a zorac a calabria style a witzko muore t'ho visto grazie a cocco bello ade admiral cari grazie per il sub grazie a ikakubi a dado a cizbuka e grazie alla donazione per di giorgio ottolini buonasera caro oggi primo tentativo di analisi 1 fallito no caro mi dispiace meno male che ce l'hai migliora la serata mi dispiace veramente qual è il problema analisi 1 che so limiti no vanno le studi di funzioni vabbè mi dispiace caro artorias grazie caro per i 5 euro questi sono per il coraggio di aver fatto pacis dorato grazie caro perlomeno mi è vicino grazie a jacklos subscribe da 10 dollari grazie mille carissimo e grazie a bambere per i 2 euro buonanotte caro grazie per la bellissima serata che mi ha fatto passare ci vediamo giovedì prossimo perché purtroppo quando ci sono le live alle 15 sono a lavoro va bene caro poi se la vede indifferita grazie mille per la donazione grazie all'inflame per il sub a mono of steel a fabrius a mayumi a pituffo e a il job grazie amici miei per il supporto grazie tantissimo tantissimo veramente grazie tanto 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 per una cosa grossa veramente una cosa grossa tadillo prima che io imploda mentalmente allora mi devi mandare il codice del del jack torrens ciao jack ciao carissimo perdonami se non ti ho letto perdonami ma quanto tempo fa me l'ha scritto sta cosa quanto tempo fa me l'ha scritta sta cosa ciao caro se ci sei ancora perdonami e grazie a xpans76 grazie caro per il sub tatillo guarda basta pure che guardi solo discord non è che tatillo non ti corressi tatillo come cazzo me lo copio aspetta 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 sai perché non riesco perché mi sei un attimo ho parlato il pc mirana ha fatto un sospiro di sollievo ma non è vero discord ok cari ce l'ho fatta tu non sai non sono autorizzato a parlare in questo canale caro dove me l'hai mandata perché mi devi complica la vita allora aspetta aspetta l'ho mandato su e lo vedi caro che mi complica la vita tatillo salve carissimo appena finito lo stream ciao wolf ciao caro nel frattempo mandami il codice vogliamo la vecchia nel canale è bellissimo tra un po' sono arriva fluto arriva caro arriva oviv aldo caro grazie aspetta che lo apro da qua dai aspetta capo da qua abbiatevenia se la trovo abbiatevenia ne la faccio perché mi sa la chat lì ok copia perfetto cari ce l'abbiamo fatta allora vediamo come va ango no mica ma ti il codice del gide ce l'ho caro tu arrivi troppo tardi arrivi troppo tardi c'è aldo già che no mi devi passare il codice del gide ah si mo te lo passo bene non ho remosh bene 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 ho craftato bene ho craftato pecis dorato e non ho remosh e viamo a shardare cose e viamo a shardare cose ho trovato una leggendaria dorata balanir grazie quanto sei come si scrive bal scrivi solo bal muore siamo in chiusura ti preoccupa la dorata ce la teniamo quanto costa 1.6 epica 5 predatore dei cadaveri caro lei non mi è utile via addio perfetto cari ci abbiamo tutto abbiamo tutto fatemi un attimo del deck prima magari allora ok carino ma l'ha fatto media ce l'ha fatto lui si grande deck builder cazzo grande deck builder il problema è come vinciamo contro prete con l'armor come vinci contro prete questo deck con l'armor ti fai tanta armor e vinci così come vinci se no capisci si infatti armor a manetta vabbè speriamo che non becca a prete il codice del del vedi caro se lei le cose me le ripete 3-4 volte io ci arrivo e glielo do se lo trovo non è questo perché questo è quello maledetto aggro vai cari proviamola non so come vince veramente contro prete a meno che non ti fai 200 di armor non so veramente come vince contro prete però ci proviamo tatillo glielo sto mandando perfetto in chat chiedono vogliamo le motte di tatillo come famo ti manderò come famo tatillo va bene mandami la faccia tu anzi no non si provi glielo ho incollato glielo ho incollato perfetto cari contro qual era penso sia una scampagnata una passeggiata un gioco da ragazzuoli da pargoli da infanti dovrebbe essere facilissimo il chat contro qual era con tutti i leo che ci abbiamo oh anche particolare la sentinella circondata molto particolare tieni more particolarissima perché devo chiedere meglio il motivo devo chiedere veramente devo confrontarmi voglio capire come cazzo si gioca su deck sentinella chiaramente te la gioco assolutamente devo capire cari l'utilità di questa carta oh ma the darkness in questo deck lo so lo voglio mettere a tutti lo voglio mettere dappertutto caro tu lo fai l'olio no no caro ancora no finalmente un deck vero sono d'accordo con te caro il control warrior io l'ho sempre amato adorato uno spettacolo non capisco il 2-6 ci sto veramente ragionando e pensando forse per evitare per giocare intorno all'arma del warlock ci potrebbe stare va in combo con il 2 mana ah ok si che da 2 armor va bene va bene va bene va bene giusto giusto ci sta caro ci sta va in combo anche con il corridor creeper lo sai per lui però dai potrebbe anche non averlo e invece e invece e invece perfetto cari ha fatto il dovere suo bella va bene va bene che abbiamo tanto l'execute per un vancliffe troppo grosso corridor creeper garrosh carino questa posso giocarla il turno dopo però penso che il corno florenti sia molto meglio molto meglio turno 4 del warrior è sempre passo carissimo ci porti un po' di guent caro io guent ho perso completamente il meta dalla situazione tutto non so assolutamente niente è cambiato molto è appunto caro questo è un execute prima pesco però una carta ma pesco 5 armatura 10 armatura carina gaiarda quanto è meglio sleepy the fish rispetto a execute questa è la domanda che dobbiamo porci quanto è meglio sleepy the fish rispetto ad execute in questo spot qua non lo so nel senso che che sto dicendo mattia ingegneria robotica dell'automazione 4 danni è minore di 3 o meglio è maggiore di 3 non ho detto niente qua ci sta bene pure la quest sai che ci ho pensato nel momento stesso in cui lo stavo vedendo prima ho visto che ha parichi down parichi non è male questo va bene questo va bene perché poi sleepy the fish tradiamo tutto cioè tradiamo tutto il 5-5 tradiamo 15 di armor qui veramente al turno 7 distruggete anche l'ira di dio distruggete con 15 di danni più la shizlem remosh questo pure è particolare sto remosh combo guai quindi dal turno 10 anche con l'arma anche con l'arma si si ma non al turno 10 si ma non al turno fammi attivare il deck non ce l'ho non ce l'ho che rivedo non ce l'ho penso che possiamo tranquillamente temporeggiare certo potrei anche giocare lo shizlem su 5-2 no non ho soluzioni per un bomber troppo grosso per un vancliffe Garrosh quanto è forte Garrosh contro tempo rogue fortissimo peccato che c'ha tante risorse in mano sto strozzo parecchie infinità tantissime che c'ha sia goal che wildwind te dillo vero sia goal che wildwind invece di remosh potevi mettere yog dici caro yog tanto è la soluzione un po' a tutto more mi ha preso l'accendino la famosa combo da 11 mana punto infatti qualcuno qualcuno ha la lista sì caro è lì sotto grazie mille per la live grazie a te caro per essere passato ma il 3-6 è il posto di cosa l'ha messo no caro il 3-6 il 3-6 mi è uscito dal sto trade non mi è piaciuto lo posso dire lo posso dire il 3-6 mi è uscito dal defender comunque oh anche il goal non mi dispiace ok il bomber ci counter in maniera significativa 2-4 il bomber ci counter in maniera significativa potrei potrei mi rimane l'1-2 l'aspettate un attimo fatemi far prima le cose normali dicevo dicevo il bomber ci counter però se lui mi fa il bomber qua ok vado di guerra scettrado il discorso è voglio veramente utilizzare il colpo di scudo perché se lui mi gioca il bomber se lui mi gioca bomber sull'1-2 e mi trad il 4-2 col 4-3 siamo boss fottuti oh spero non c'è bel bomber perché gherosh è molto forte torno dopo però se lui buffa l'1-2 e mi tradda il 2-2 col 4-3 siamo fottuti siamo fottuti perché gherosh risolve poco poco ma achille dettore va bene matti perlomeno stabilizza il nome ok ottimo gherosh ottimo gherosh cari ottimo gherosh si è preso il bomber non fa niente come caro ho sbagliato il nome stabilizza il nome perché una volta achille dettore no no achille dettore achille d'aspore d'aspore ormai hai dato tu il nome ormai la carta deve essere rinominata capito ma già ben brod una partita di questo tempo dura dalle 30 alle 45 minuti però soprattutto mo ci ho pensato contro cube vabbè contro cube vinci in fatica ti fai 75 d'hp e vinci lui perde per la fatica guarda quante carte che c'è in mano guarda quante carte che c'è in mano 9 redraw no 9 carte 2 4 6 8 no va bene ma te hai un nuovo sub che si chiama mandarino a tesserino mandarino a tesserino fantastico caro aspetti oh ottimo abbiamo abbiamo la combo per 5 9 quindi posso usare questa top deck vabbè uso il little power perchè fa figo mandarino grazie caro per il sub grazie per il sub a quanti sub siamo glielo dico caro contro rin perdi tanto contro rin perdo si contro rin però sai caro rin non è giocatissima attualmente allora noi attualmente siamo in una situazione particolare in cui lui ha tante 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 risorse in mano noi no noi no vorrei veramente pescare il mio acolite visto che quell'altro me l'ha brutalmente silenziato acolite tiro power peschiamo un pochino di roba anche perchè non abbiamo troppi card draw ma ti dirò ma non potrebbe essere anche un weapon rogue che non ha ancora trovato l'arma ma non ho capito che sta giocata vabbè no si in realtà si è costretto a farlo no non è weapon rogue caro questo è un tempo a tutti i caspita di effetti si si in cinocchiati al mio cospetto oh questo è un po' distratto ho notato caro rega o wild wind remorse oppure semplicemente hero power arma che forse è molto meglio hero power arma lui me lo tradderà con la vilerba sicuro però vabbè in cinocchiati al mio cospetto me lo tradderà sempre con la vilerba no rega scusami se conto tempo rogue andiamo in fatica conto un razza cosa che fai prendi i coglioni e te li malmeni è terribile è terribile noi abbiamo una oe di massa fortissima che non possiamo utilizzare altrimenti perdiamo la partita tutta la vita abbiamo 15 di armor non sono mai poche io la vilerba qua gliela faccio per forza ma è matematica c'ha veramente così tante carte in mano che non può non averla il problema è che non posso giocare a remosh abbiamo la combo fantacombo che abbiamo 4 carte in mano e vilerba la cpu sta morendo dice penso di non far niente qua io eh si caro ho visto attendo mi prendo 6 danni in più però penso che posso aspettare per la per l'arma mattina ti chiedo a che numero di sigaretta sei è la seconda e mezzo caro sono io che non sto fumando sono io che non sto fumando è quello il discorso è perché ce l'ho sempre in mano ce l'ho sembri un po' teso stasera no caro no 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 si era comunque si era lei non sono teso caro sono concentrato sono concentrato questa qui è la seconda e mezza è che l'accendo di continuo non vedete l'accendo di continuo ecco anche adesso l'ho accesa e non ti incazzare cara stia calma giochi 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 questo c'ha la combo l'iroi questa c'ha la combo l'iroi per forza 6, 12, 15, 18 sono 19 anni e io non posso assolutamente giocare alcunché niente zero e giocami giocami pezzi maledetto giocami qualcosa non sto giocando niente stai in passivo sapete che mi sono scordato il deck peraltro perfetto l'armaiologa è arrivato il suo momento è arrivato è arrivato il suo momento armaiolo sta cazzo di temperatura da cpiume ha paruto il cazzo dammi 15 di armor grazie carissimo grazie carissimo allora fatemi ragione un attimo armaiolo hero power discorsi voglio fare hero power prima si cioè no nel senso voglio più 2 di armor sto facendo uscire pazzo al tipo che cazzo ma cosa ma che deck è ragazzi ma cosa mi state facendo giocare lo sto facendo uscire pazzo al tipo non ci sta cambiando più niente il problema di questa di questo deck che non ha troppi cardone nel senso si ce li ha in realtà però caro prima o poi deve cedere mi deve buttare l'ira di dio in campo dai deve cedere io continuo a fare i low power finché morte non ci separi tanto non gioco mai lo sheslam finché non mi giochi la vilerba non gioco mai la wild wind perché mi serve per le mosche divertente sta partita divertente vedere lo streaming questo warrior oh signor oh cardro allora oh signor vorrei far vedere la tua fascia con cui mi stai guardando in live sei avvelenata sei avvelenata sei veramente sei incattivita proprio dimmi 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 ok che sta arrivato il momento di giocarla giocamento una bomber beh 5-4 in campo abbiamo comunque mi piace a mano del morto carino non mi ricordavo nel senso che ok va bene che mi prendo però poco e niente stiamo a 35 hp lui ha l'eroy shadow step shadow step kelleset backstab backstab bomber schiavo va bene incattivito così vai vai contro Harrison vai che se lo merita caro vai che se lo merita mano del morto come lo uso in questo matchup io sapete che non lo so sapete che non lo so gioca bomber 4-5-6-6-8 un 9 danni mi rimangono 5 di armor poca roba potrei giocare rasoio rasoio ma ne vale veramente la pena rasoio rasoio non penso chiaramente se gioco il ghast mi privo della mia wire wind che chiaramente è quella che mi serve per la combo con remosh quindi abbiamo detto che ha perso è un po' vince lo trovi sotto il video di dove ok non c'entro anche io caro un'altra vilerba si infatti infatti all'appello mancava un'altra vilerba va bene so 5 danni no ho contato bene esatto infatti 5 danni tra 2-6-5 a meno che non gioca un qualcosa non gioca un qualcosa oh ragazzi potrebbe già giocare remosh si potrebbe giocare remosh il discorso è questo che se io non gioco col po' di scuola adesso non lo gioco più remosh è forte però me lo counterà dalla vilerba va bene e dopo di che vado di ghast e c'ho shism con 4 di armor e trado la vilerba sbammalo boomalo ok quindi c'ha vilerba l'eroe shadow step shadow step mi fa particolarmente paura e questo è chiaro lui va contestato col backstab vilerba va bene trado vilerba e gioco ghast tutto secondo i piani tutto perfettamente secondo i piani dobbiamo solamente stare attenti ai 13 danni di l'eroe con l'eroe power però insomma ho altre carte ma non mi ricordo quali carte c'hanno sto deck però dovrei avere altre carte comunque Matti ti dicono nella chat e mi sembra anche giusto questo è un deck con la skill non è vero è vero è vero ma infatti mi sto divertendo so che potrebbe essere carinoioso da guardare un live ma io mi sto divertendo molto a giocarlo sto deck buono a parte di scherzi ok il mio wire mi ha tolto oh signor che figata sta roba che figata è il fabbro che figata è il fabbro ok non vince più è finita mi piace molto a quanti sub siamo caro ti prometto che dopo sta partita tu non me lo ricordi e te lo dico e ve lo dico un po' a tutti questo è un deck con skill non come razza questo è vero carino è vero è vero ma io adoro giocare il contro warrior cazzo io da sempre ho giocato il contro warrior però ecco arriva a legge invece devi fare 3-4 nottate oh attenzione penso che contro aggro cioè contro aggro si è preso poca roba poca roba caro oh signor investe così il suo coin il suo backstab ok non ha più le bile erbe il 4-6 vuol dire che non lo tradda più io penso che appena giocheremo il fabbro di strada mmm quitta ok mi piace hero power o l'arma c'è un'altra arma in realtà potrei anche usare l'arma swing un po' in faccia boom e lì da nel turno dopo cari mano del morto no già mai già mai remotion non è meglio sdoppiarselo con uno del morto troppo lenta caro non serve per vincere questa partita mano del morto allora tu sai tutte le carte che lui c'è in mano infatti hai visto come l'abbiamo traddato con la vilerba con lo shi con lo shislem quando tu sai le carte che c'è in mano l'hero shadow step cioè non puoi perdere quindi mano del morto è troppo lenta non ha senso qui non so cosa voglia fare lui ora gioca shadow step no per dirmi vedi che c'è c'è un shadow step no lo userà su bancliffe no contro tempo rogue sodè che è fortissimo veramente fortissimo certo se parte forte con kelleset è dura eh ma ha capito che ci abbiamo lì dall'apprescindere ah mi fai ah ok si sta divertendo ma ti lascio usare mi piace bello devo giocarci un po' di più cari probabilmente un video su youtube ci scappa di sto deck eh mi piace tanto peccato che non abbiamo arrancato manco per il cazzo stasera è chiamata malissimo signori potete mandare la lista da dirlo ce l'hai? di questo deck si ok muove la manda allora cari simile meta top 200 è molto differente in realtà caro no c'è nel senso che quelli sono i deck che incontro pure io razakus agropala qblock jdroid non penso sia molto differente top 200 rispetto al rank 2 non lo so non penso caro io numero dei sub si ve lo dico subito io non penso caro sia differente comunque una partita ha fatto ha workato abbastanza bene io non so come cazzo si fa una situazione del genere ok non lo so io cari mi piace molto a me il control warrior mi piace molto 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 insomma allora carissimi io ringrazio veramente ma deve finire la zizza elettronica caro l'ho persa e non si faccia stranete l'ho persa seriamente domani si lavora caro la lascio subito io cari spendo due minuti in più per ringraziarvi veramente di cuore per il supporto mi dato siamo a 753 sub è assurda questa cosa quindi arriveranno una vagonata remote cari abbiate pazienza ma shoppato solo dissipatore nuovo ah shoppato solo dissipatore nuovo si e no caro ma il fatto è che il fatto è che devo shopparlo ragione cari veramente grazie mi supporto spero che la stream vi sia piaciuta io sono distrutto ma mi sono divertito tantissimo peccato abbiamo arrancato male perché avete visto le partite però grazie veramente tanto 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 notte notte a tutti carissimi allora e grazie a ai sub perché vedi poi mi scordo di diciamo di ringraziare allora grazie a Mojito che avevo ringraziato il mandarino e grazie a Mattems caro lei è l'ultimo sub della serata grazie mille cari per il supporto grazie a Nabu per essere stato in chat sembra che sto finendo la trasmissione televisiva invece devo semplicemente fare un host allora cari chi volete vedere vediamo chi c'è sta aspetta Matti ma lei è una rottura di coglioni caro non mi perdoni me lo fai sciadire no sto scherzando caro fino all'ultimo ma manco troppo dica 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 che cerco più stare devi dire il numero dei sab caro ma lei ma lei è rincoglionito o cosa lei è rincoglionito o cosa lei dirà cosa ma lei è rincoglionito perché l'hai detto caro ma i cinque pacche l'ho fatti prima oltre a sghignodorato l'ho finito sono 754 sab allora cari io vi mando a vedere un gioco vi mando a vedere un gioco molto interessante se volete ve lo porto anch'io non ci ho capito un cazzo viking me l'ha spiegato ma non l'ho capito quindi non lo so poi magari mi dai più se vi piace si chiama one million no the billions the billions l'hai tirato a scemo tu carissimi vi ho sto viking penso che lo conoscete tutti grande amico spammate le sigarette elettroniche vengo a spammarle anch'io se solo capissi come fare bene siamo devo mettere io sta cosa non la imparerò mai host host slash host signori vi lascio a big in place al grandissimo simone mi raccomando lo spam importante di sigarette elettroniche io cari come sub caro se attua apri il twitch prime è gratis se no basta che va sopra oh fed caro grazie per il sub amico mio grazie mille conosci feria no no caro comunque cari se vi piace il gioco che fa viking fatemelo sapere che oh si inizia e si gioca the darkness è un sasso un po' meno è un san pietrino caro io l'ho detto subito è un san pietrino signori nel mentre un buon proseguo di serata un grosso abbraccio è bella grazie da dirlo caro grazie per essere da mia compagnia grazie a tutti cari a mi raccomando le sigarette da viking ciao a tutti ciao cari bellatrix ok che ne stanno arrivando mille grazie a tutti